bella laga oggi facciamo due chiacchiere con questi tre loschi individui più stormy verso le 11 papà mike hai me nel regno dei pannolini e murri invece è nel regno delle delle piantine psichedeliche retro dello sfondo in che oggi mi sono visto entrambi i vostri video grande bravissimo giorgio ha intenzione di avere tutta la vita come background 24 piantine non è che si si fa dopo mezza giornata lui ha proprio un'ossessione con le piantine devi dire questa cosa ma sì a piantine ovunque ne ha una in camera da letto 16 mesi ancora un e arriva 17 un disastro non capivo infatti guardate devo essere lesto a mutare la gente che parla io ho fatto qualcuno oddio qui no murri ha detto che non se lo aprirà adesso nel canale ma murri non ha tempo neanche di fare quello che sta facendo povero comunque io secondo me quei piantini verranno sostituite tipo da barattoli dei bull powders dietro in base allo sponsor stavamo parlando stavamo parlando del fatto che luca abbia insonorizzato tutta camera sua per poter giocare a fifa senza querele e denunce che stava facendo un piccolo sondaggio su quanto costi insonorizzare una stanza per capire se i prezzi da trento a roma a palermo siano diversi perché noi ci hanno sparato una cifra fuori di testa per l'ufficio detto vabbè sai cosa lo faremo contando un po come c'è nata la necessità di insonorizzare l'ufficio hanno rotto i coglioni abbiamo comprato no io una sera sono andato con la mia ragazza giocare a ping pong in ufficio erano le 11 di sera faccio un paio di scambi sento la porta dell'ufficio che si apre perché non avevo chiusa chiave mi blocco e qualcuno mi richiude la porta dico che qualcuno ha provato entrare nell'ufficio a trento non succedono solitamente la gente ha più rispetto però posso capire che non c'è un campanello personale non c'è un cazzo appena mi avvicino alla porta qualcuno bussa apro e c'è sta vecchietta che avrà avuto 60 anni 70 anni non lo so che mi guarda stralunate mi fa ma state giocando a ping pong io con dopo le piedi racchette in mano gli faccio si ma io stavo cioè io non è che io stavo nel letto non stavo dormendo però insomma sono le 11 cioè si sente fa casino e ho già capito l'andato le 11 di sera 11 di sera 11 di sera posso capire che un pensionato vada a dormire a quell'ora ma questo nell'altro nella casa nuova nell'ufficio in ufficio in ufficio ok ah quindi l'ufficio è un palazzo che piano state è un condominio sono a piano terra piano terra quello commerciale nessuno sotto sono tutti i piani commerciali però quanto pare sopra di noi c'è sta questa vecchietta e si sente il toc 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 hai presente una stanza di 80 metri quadri vuota solo con un ping pong lo senti ovunque buona terra ci sono anch'io buona sera ovviamente allora abbiamo sentito un paio di aziende per per farci fare un preventivo per insonorizzare almeno almeno il soffitto ma ci hanno sparato dei prezzi come più di 6.000 euro solo per il soffitto ma cosa gli mettevano cioè sai cosa si può fare un controsoffitto di cartongesso e riempilo di lana di roccia ok che è la cosa base e sarebbero circa 60 euro al metro compreso di lavoro 60 euro al metro quadro il lavoro tutto il materiale noi abbiamo abbiamo tre metri di soffitto quindi possiamo fare anche 40 centimetri di di controsoffitto e non poco e poi facciamolo grosso 60 euro sarebbero 50 metri 6 per 5 sarebbero circa 3.000 euro poi allora c'è arrivato insonorizzazione ambienti italia numero uno nell'insonorizzazione con il loro brevetto il loro schiume uniche nel loro genere fatecelo gratis eh no noi facciamo solamente aziende e abitazioni private perché il massimo di tetti che facciamo sono 15 metri anche perché farvi 50 metri verrebbero circa 6.000 euro ma infatti ma infatti è tutto quello in base io per fare la mia stanzetta voi ricordate la stanzetta cioè solo per fare una parete mi sa una chiede tipo 2.000 e passa euro per quella parete e poi ti dicono guarda che non ti assicuriamo che sia isolato acusticamente perché dovresti fare un intercapedine non solo sul soffitto ma sulle pareti e sul pavimento deve essere proprio un po' isolato tutto e non rimbalza esatto io infatti ho fatto la stanza dentro la stanza esatto devi fare proprio un secondo involucro ovunque se proprio vuoi fare questa roba quindi 6.12.18.24.32.40 mi compro una casa nuova in campagna se devo fare questa cosa capito? ti fai... davvero vieni in Brasile e ti fa l'ufficio in Brasile e strimmate da qua ma è tanto in Brasile che dovete usare il soffitto? sopra avete case? è sopra l'antica però vabbè il discorso è anche che la stanza è completamente vuota quindi ora rimbomba tutto quindi prima la riempiamo tutta completamente capiamo quanto suono viene bloccato e poi ci muoviamo di conseguenza tra l'altro ho visto il tuo video Giampi mi sono comprato 4 col tuo referral link i pannelli da 50 euro l'uno sono assorbenti e proviamoli li provo in camera ma funzionano quei pannelli? eh penso di sì 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 sono figli non sono normale peggiore dei casi il reso è un attimo con Amazon sì infatti esatto ma perché il tetto non lo fate voi scusate che cazzo ci mettete a insonizzerlo voi? domanda da Boomer come compri la lana di roccia l'appendi proprio al soffitto e poi gli fai uno strato tipo di stoffa nero e lo è il problema a mio padre mi ha proprio le proposte di prenderci tipo un metro o 80 centimetri di polistirolo e mettere su quello però anche il polistirolo è un po' troppo rigido mi dicevano e quello è ancora non il discorso è adesso ci picchiamo dentro il biliardo tutti i divani, tutte le cazzate, un tappeto e roba e capiamo quanto attutisce e poi possiamo fare anche il soffitto con quelle cose lì con quelle vele pensili tipo quelle che hai tu attaccate tu il soffitto a varie altezze ecco lì anche funziona un altro preventivo che ci hanno fatto per una sorta di mini trasloco per portare un biliardo da casa no diciamo dal garage nostro all'ufficio abbiamo chiesto a una ditta di traslochi quanto fate per un divano e per un biliardo ci hanno detto 500 euro ma scusa raga mi è costato 800 e il biliardo con i buoni Amazon mi staccavate prima di comprare in Brasile dai 50 euro a du brasiliane ci fai pure sesso mi dissocio pure io ma io il furgone in realtà ce l'ho il fatto è che il biliardo è un po' delicato però vabbè lo ficcherò sul furgone con mio padre lo portiamo là e ciao cioè io ho affittato un furgone per 24 ore con tipo 200 chilometri inclusi 47 euro sì sì è un cazzo affittiamo il cugino di Giovanni che è bello a varie strade 47 euro affitto il mio cugino che fa c'è in 50 kg la panca piana tira su due biliardi dei nostri tira su noi sopra il biliardo ma sì dai sì sì raga l'ho pagato 47 euro pochissimo cioè infatti quando l'ho visto prendo subito tra l'altro piccolo fan fact avevo ordinato tipo il doblò che è quello più il doblò il furgone che è il furgone Fiat quello più piccolo mi hanno fatto trovare un Ducato cioè il Ducato è quello di Corriere di Amazon è quello che ci sta dentro sì è quello gigantesco tutta casa più o meno il fatto è detto no io non l'ho mai guidato mo faccio un incidente io la scuola guida l'ho fatta col furgone di mio padre ma è mille volte più comodo della macchina perché tu non hai tutte cioè tu vedi tutto dal furgone sei alto e vedi tutto sì da spiattivi vedi tutto oltre che ha un raggio di sterzata pazzesco ho visto cioè le ruote ti mettono di putt'estate 90 gradi e poi sali sull'Apolo della scuola guida e tipo hai la visuale minuscola perché c'hai due regini per fare 90 gradi devi girare le volante 4 volte esatti invece col furgone no una sestria cioè fai subito stessa cosa io facevo facevo scuola guida tra virgolette con mi madre e il SUV e il SUV da guidare era una stronzata rispetto a alle macchine della scuola guida sì sì poi le macchine poi delle scuole guida sono tutte mezzerotte eh capito parliamo che la mia scuola guida aveva 5 polo e un Audi TT e chiunque si iscriveva per dire ah mi fanno guidare l'Audi TT era solo un bait non l'ha fatto guidare a nessuno ah quindi c'hai l'autoscuola clickbait oh questi sono furbi marketing hanno capito tutto hanno capito ma penso che non era manco per i neopatentati tra l'altro l'Audi TT ah neopatentato poi cioè con l'istruttore a fianco per guidare qualsiasi cosa però il discorso è che storie narrano che quell'Audi TT l'abbiano guidata quattro persone che probabilmente la quindicesima guida erano in grado già di guidare o gente qui non ritirato la patente dovevano solo diciamo rifare le guide per obbligo o forse il figlio del del proprietario voleva la zitti e tu prendiamo l'aziendale poi la guido io esatto io ho fatto la guida che la macchina aveva il servosterzo rotto una lancia Y una merda fatto muscoli ma che fastidio io non mi ricordo con cui l'ho fatto sinceramente è troppo tempo brazzo se a me sei vecchio non te lo ricordi ho fatto con una Fiat 500 ma lei hai preso in Brasile la patente? no no in Brasile ho 12 anni che mi sono andato via dal Brasile quando ho guidato la prima macchina no 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 una cosa vi racconto sta cosa qua allora io dovevo prendere la patente a 18 anni no come solitamente si fa io a 18 anni per risparmiare no perché ho fatto un po' il braccino per risparmiare ho detto non ho detto che era più veloce eccetera eccetera di andare alla motorizzazione invece che andare alla scuola guida però io non sapevo bene come funzionava sta cosa perché alla motorizzazione loro ti dicono cosa fai questo leggi ti studi tutto ti presenti il giorno degli esami fai diciamo no il test e poi dopo si fanno le guide perfetto oh arriva il giorno dell'esame dentro una sala nella motorizzazione gigantesca con i banchi ehi su quelli banchi che hanno soltanto l'appoggio a braccio così con cosa tipo quello senza neanche un cartello non c'era un cartello era vuota ma così è la motorizzazione era tutto manco un cartello non c'era niente tutti distanziati io così ok comincio a fare la cosa sbaglio quattro quanti si potevano sbagliare tre con quattro ti bocciano io ho sbagliato i quattro perché mi è capitato una cosa sul sinistro stradale una roba di assicurazione e una stupidaggine che era il parcheggio a spina no perché c'era il marciapiede davanti il parcheggio a spina e la strada c'era scritto devi dare precedenza alle macchine che passano sì ai pedoni io ciao 18 anni ho detto ai pedoni i pedoni sono su marciapiede che devo dare precedenza in mezzo alla strada ho guardato ho messo ho messo di no ho messo porca troia ho sbagliato questa e l'ultima era una cosa sul sistema di ritenuta bambini ops ho scoperto che posso far comparire anche i commenti ok burro che figata ma signor brazzo una domanda le devo fare che viene dalla mia chat domanda un po un po brutta insomma com'è finita con la fortcuga ma la so presa under culo ma te l'ho ridato i soldi ma quella che te l'ho rubato sì esatto praticamente con la macchina c'erano le cose con la ford che ti dicono che ti ridanno assicurazioni al 100% eccetera eccetera c'era scritto che sì 100% me lo davano se sì tornavo alla ford rifinanziavo un altro mezzo un altro mezzo nello stesso valore o valore superiore quindi dovrei spendere più di 30.000 euro per un'altra macchina e meritavano tutti i soldi altrimenti si tenevano nel 10% e quindi e quindi alla fine mi sono rimasti 4.000 euro da pagare ah pure oltre al danno pure la beffa beh che dire sono rimasto senza macchina così ho fatto tipo che dire che merda vabbè adesso la puoi rubare in Brasile comunque non ho problema no ma lì lì in Brasile c'è tipo car sharing cioè se le rubano a vicenda lasciamo direttamente capito fai il giro esatto e qua non esiste car sharing grazie mappatore grazie polaretto dovete mutare no scusate mi sono dato su discord hanno messo grazie mappatore grazie polaretto grazie Gigi grazie Vincent grazie Andrea grazie grazie Sanlaura grazie Shiru 17 17 posso continuare solo una cosa sono state nervose perché sanno che stanno ballando sulla sottile linea che separa l'ironia dal ban di Twitch infatti grazie Claudio e Smiles grazie Andrea Papuz grazie Disa grazie mi hanno bocciato grazie Massimo DR grazie alle player grazie Riccardo grazie Giulia ho rosicato un botto mia madre doveva andare in Brasile doveva venire in Brasile no e io e mi lasciava la punto c'avevo la punto c'avevo all'epoca e mi lasciava la punto per un mese e io stavo io non sono riuscito a prendere la patente perché mi avevano bocciato quindi ho rosicato tantissimo e mia madre la macchina parcheggiata io andavo a scuola con il motorino un giorno mi faceva un freddo della madonna guardo vedo la macchina così prendo la chiave senza patente non avevo manco fatto le guide però sapevo un po' guidare mi sono andato a scuola con la macchina sbagliatissimo non lo fate non lo fate ci fu una notizia non lo fate io ho preso la macchina sono andato sono arrivato davanti amico mio ma guardavo mi ha detto ma che cazzo ci fu una notizia quando io andavo eravamo alle medie che due ragazzi penso della nostra scuola media o di un'altra fuori dal parcheggio hanno preso una macchina e l'hanno rubata e ci hanno fatto un chilometro fai conto erano troppo bassi uno era inginocchiato sui pedali e uno stava usando il volante non so come abbiano fatto a fare più di dieci metri non me la ricordo te lo giuro te lo giuro ma che sei da pazzi se ne fai di testa cosa io posso al volo che è cortissimo con la macchina di mi madre mi madre c'ha avuto una ma proprio ero piccola ancora prima di questo di questo evento sono stato piccolo anch'io praticamente ha fatto c'aveva una una scona ti ricordi la scona ascona cos'è la scona ascona ascona no ascona camper metti metti ascona guarda tu cazzo era brutto quasi in brasilia si chiama monza ascona è proprio la casa produttrice o il modello ascona opel opel mi sembra che è si e sta cosa minchia che brutta oddio ma una volta era bella all'epoca all'epoca era bella come puoi stimare lo schermo brazzo questa qui è l'opel ascona sì è vero ascona che storia raga ascona opel 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 ascona mamma mia aspetta che grazie tommy grazie simic michelotz grazie grazie giulia ventroni grazie grazie agnese allora me la fa vedere anche a me su questo schermo ah guarda qua che bella lo belascona guarda sì ma il modello del minato era questo aspetta era tipo questo era tipo questo però era blu un mercedes dei poveri sì ma una volta era così oh guarda che macchina dal 70 all'88 è stata prodotta no questa era questa era bella aspetta era opel nell'italia non so era opel sì sì è il modello baracca è il modello sv è il modello sv è il modello sv è il super baracca sì era questa qua comunque brutta come come e io mi ricordo mi ricordo aspetta che posso togliere la cosa mi ricordo che ho fatto stavo da mia zia mia zia stava a casa non mi ricordo una signora facendo delle pulizie con la macchina di mia madre ha detto ah sì vado a spostare la macchina mia zia no non lo fare ha detto dai fammi andare a spostare mia zia no no non l'ho fatto vabbè dai sono prendo la chiave e ci vado lo stesso proprio le cose no l'obbedienza 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 non so manco più a parlare italiano ma bello che fa con me esatto e praticamente mi associo ho fatto ho fatto tipo retromarcia no retromarcia scusa faccio una manovra così era una zona se non sbaglio era centrale del latte stavano rifacendo proprio a Roma era nuova quindi non c'era niente ancora erano solo i muretti io prendo la macchina faccio così arrivo in fondo alla via che non c'era nessuno vado a mettere la retromarcia però la retromarcia era quella che dovevi tirare su e mettere vicino alla prima sì anche nel ducato l'altra volta dovevi tirare su quindi è graziosa quindi facevo così però stava vicino alla prima non stava dietro cioè attunto invece di far così non mi è entrata mi è entrata la prima guarda io cosa ho fatto io così madonna hai sbattuto in piedi io mi guardo io mi guardo così faccio e vado avanti sono salito sul marciapiede ho spaccato un muretto ho spaccato un muretto ho spaccato un muretto a un certo punto sono rimasto tipo bloccato così mi si è spenta la macchina oh si avvicinano tipo quattro muratori che stavano a fare cose l'altra volta mi guardo e gli faccio ma che cazzo hai fatto ho fatto che stai fatto no ho preso la macchina di mia madre tipo così è bravo esatto a un certo punto io se mi guardo mi faccio non ti preoccupare il muretto qua lo sistemiamo noi ma vattene a casa arrivo sotto c'era la parte sotto della macchina così che mi si era piegata tutta verso l'interno ho dovuto tirare poi capì mia madre non ha mai saputo sta cosa sai anche se si era rotta la macchina sotto ho detto che l'hanno presa non mi ricordo che roba non c'è Mike signori perché ha i compiti da padre da fare da portare avanti dicono che la figlia ha i riflessi allora alle 11 arriva Stormy e Muri non c'è perché non mi ricordo manco più Muri ha comprato 45 piantine di plastica per l'ufficio le stanno affiando le stanno affiando ma non si accorge che sono di plastica chiedono una domanda importante a proposito di macchine ma perché Camper non guida ragazzi la storia è un po' lunga e noiosa semplicemente io ho preso la patente ormai penso 9 anni fa guarda tra un anno scade a me quindi tra due anni scade a te a me pure scade a 2022 8 anni fa sì che vecchio non potevo guidare alcuna macchina della mia famiglia perché erano tutte di cilindata superiore quindi per un anno da neopatentato da neopatentato non ho potuto guidare poi ho cominciato a fare l'università a Verona quindi andavo avanti indietro da pendolare col treno così per due anni dopo tre anni che non toccavo la macchina perché oggettivamente non mi serviva per niente era un po' difficile tornare a guidare poi rimanda 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 che rimanda tu hai passato 8 anni e non ho mai più guidato da quando mi sono potente porca roba dove mettevo camper su una macchina e l'ho prima a fare guidare vi prego facciamolo c'era un periodo la sub goal faccio guidare la mia macchina camper per fortuna non l'abbiamo mai fatta ma la tua macchina è automatica sì è facilissima da guidare io direi che è automatica io sono il campione della abarth virtual championship i simulatori sono più forti di spawn che guida da dieci anni quindi i simulatori sono un delirio cavolo da guidare è molto peggio della vita reale non hai non hai non hai la percezione non hai il sedile che ti schiaccia esatto molto difficile cioè io su assetto corsa faccio cacare perché non ti viene da fare le manovre basiche che faresti tipo frenare davanti a una curva oppure fai una curva di 90 all'ora ti sembra di farla in tranquillità nella realtà se fai un angolo di 90 gradi 90 all'ora sei morto probabilmente esatto sì perché non c'è la percezione è vero è vero io mi devo portare il coso mi devo portare il volante qua comunque l'ho lasciato non mi entrava niente manca la luce del gatto mi è entrata dove entrava la valigia penso a me che è piatta perché non ti lasciavi tipo un paccone l'ospedivi scusa si ha spedito se eri a un comino di monica di tasse quando si può spendere un cazzo raga qua un macello qua c'ha le tasse che sono peggio dell'italia dal punto di vista di sbocanamento vabbè ti credo direttamente di le cose no sì per forza o poi quando vado in Italia prendo le cose e ritorno qua faccio così metto dentro le valigie e come funziona devi ritornerai devi sperare che non ti non ti aprono la valigia e vedano che tu stai sdoganando merce è lavoro suo questo è una giovanza comunque no però non era niente come si dice non era niente di imballato nel senso era tutta roba tra virguito usata però se io il mio computer io l'ho portato dentro una valigia ho comprato apposta una valigia ma l'hai imbarcato l'ho imbarcato non hai capito madonna follia ho pagato il priority là quello che comunque te lo mettono per ultimo te lo ridanno per prima infatti è uscito perfetto però ho staccato sulla scheda video la ram l'hard disk l'ho messo dentro lo zaino che potevi mettere un faretto dentro a sto punto tanto faceva faceva ho messo i vestiti ho portato tre valigie piene arrivato all'ultimo giorno devo fare così cazzo mi è rimasto ho portato pure il coso dell'elgato il bastoncino l'asta è entrato da una parte il mount il multi mount esatto sì e però la parte quella che è così ti giuro io ho provato ad aprire non mi entrava pensa quanta roba ci avevo detto le valigie ci avevo tre valigie troppo piene io mi sono cagato sotto mi sono cagato sotto alla cosa all'uscita mi ferma la dogana qua adesso mi fa aprire una delle tre valigie c'avevo playstation possiamo portare pure alexa che cazzo ne so boh non lo so è qualcosa di trabando infatti ah esatto tipo contrabando esatto quella roba lì di tutto mi sono portato in teoria se tu vai in america ti compri un iphone che ha la tassazione con l'iva minorata te lo riporti in quanto dovresti pagare la differenza di iva oppure te lo metti nel retto speri che non ti facciano una colonoscopia esci e te lo vedi fuori deve funzionare così semplicemente semplicemente lo usi e ti dis oppure te lo metti in Italia la scatola esatto così però murri quando ha comprato l'iphone in america l'ha portato in Italia senza più o meno chiunque fa così di base tutti più o meno finché non sono sostanze superfacenti dai no per un iphone oh dici mi si è rotto il mio l'ho dovuto comprare che cazzo cosa si devono dire alla fine dei conti niente oppure mi serviva un altro telefono per mettere la sim americana che ne so tante cazzate ci sono telefoni di lavoro troppi contatti eh troppi contatti solo per il mio iphone no ma che scherzi cioè io me sono all'ultimo non è discriminazione infatti non dico niente mi dissocio no 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 bravo 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 in moto che in penna non vede la 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 io ho visto i documentari penso ancora di dieci anni fa delle Iene di come portavano gli ovuli di coca dalla Colombia all'Italia si esatto si o se ne ingerivano direttamente o se ne ingerivano penso però lì era il problema perché se gli eschioparono morivano un ovulo morivano certo ma ma io mi ricordo all'aeroporto ti giuro che ho fatto tutto ultima strada così corridoio lungo dove ti prendevano la temperatura da lontano e tutta la polizia da una parte dall'altra io con il mio carrello con lo zaino il trolley e tre valigie giganti sopra così ho detto se passo da solo qua mi fermano sicuro assolutamente si vettel se questi stronzi si fanno sentire ma in realtà comunque noi facciamo solo i parkour di gta però comunque jumpy mike moore stormy le loro gare gta le fanno io non ho mai invitato nessuno nelle nostre gare parkour perché di media i nostri video durano un'ora e non costringere mai nessuno a fare un'ora di video poi se volete partecipare io lo faccio ma anche le mie le regole sono un'ora di video di media perché di media un parkour ci impieghiamo un'ora parkour livello easy io ci metto 40 minuti a fare il primo il primo checkpoint e poi però si va fluidi io sono una bimba una volta su twitch una gara che lo c'è l'ho femminita quasi è durata 5 ore era una questione di principio si a un certo punto diventa principio si esatto ma quante volte abbiamo fatto questo voglia arriva in un punto della gara e dici no minchia devo quitter adesso dopo che ho fatto 3 ore di gara quindi no continui altranza per finirla ora sbloccherò un ricordo incubo a camper a proposito di video ma gmod quanto ci mettevamo per fare un episodio ma lol pomeriggio io voglio provare posso spoglierare quella carta giova quella carta quale carta quella carta che ho fatto oggi giova già si è dimenticato si ricorda un cazzo posso spoglierarne una ah va bene va bene allora noi stiamo facendo un piccolo progettino di un mazzo di carte si ma si avevamo già fatto un video sui tarocchi avevamo anche dato dei tarocchi personalizzati ci leggevamo il futuro a vicenda abbiamo dato un ragazzo che ce li disegna e ora non so quale voglia farvi vedere Andrea però beh secondo te quale faccio vedere grande più di paio eh non so ci hai messo hype quindi forza signor camper siamo tutti tutti curiosi parlava di sbloccare un ricordo lo sblocco adesso il tempo di capire ora c'è colaff sicuro ha capito prima jumpy di me praticamente ma Giovanni oggi la ghicchia ma l'ha già colorato quello si no è una bozza è solo la bozza senza colore attenzione bello spoilerino non devo aprirlo con paint vabbè intanto vi faccio vi faccio un piccolo preambolo i tarocchi servono per leggere il futuro no un tarocco se viene girato dalla parte dritta ha un significato storta ha il suo significato negativo e colaff cos'è? colaff è è la gavetta no è sottoporsi a qualsiasi cosa no no non è la gavetta è peggio è peggio tra l'altro chi è in chat che conosce colaff tra tutti quelli connessi sono pochissimi chi è che conosce colaff sono pochissimi hello madafuck ok che figa è ancora ancora in bianco e nero è un tormento è un tormento che torna dall'aldiva che figa e qual è il significato allora? è la morte non vedi no aspetta questa è solamente una bozza ragazzi questa è solamente una bozza poi chiaramente andrà colorata sta uscendo tipo la resurrezione di colaff che esce dal tu dalla tomba che figata la morte del meme cos'è che era? è un meme morto che può tornare a a tormentare a tormentarti però ci sta molto bella Figa ho visto ho visto una cosa figa gigantesca cos'è? cos'è? signor camper non so non so cosa ci sia visto ma non so io ti dico solo che mi ricordo alla cosa del buco nero di fortnite ok stormi a casa stormi a casa mia fa così apre il numero di telefono ti ricordi? si apre il coso telegram e fa così oddio che cosa è qua? clicca sulla mia foto fa un po' vedere sta foto e si vede il mio numero per un secondo e chiude io faccio così solo me lo guardo e lui fa no no tranquillo come di non si è visto passano dieci secondi mi comincia a scrivere il telefono e uno e due c'erano trentamila persone su quella live ho bloccato trecento persone per una settimana intera quando mi avevamo stormi che si citava con un buco nero si è mosso appena arriva lo prendiamo per il culo per i suoi timer degli eventi è andato per quello per essere preso per il culo che storia c'è camper grazie Paolo ZX grazie Giucchio da Colaf grazie Darius grazie Compatto grazie Genk io mi distorcio da questa cosa hanno detto? avete visto il fatto che ci fosse una lapide su quella carta ma che sono morto io non si vede più Brazzo ti sei scaricato la cam ma non è possibile è stato un grigino ti ha rapito non so se avete visto il video dei grigini no perché Brazzo vi spiego io perché Brazzo ci ha settato due OBS uno va in live su Twitch si ho capito si è corretto ma ve l'avete mai visto il video dei grigini vicciotti che sono i grigini grigini dai fa troppo ridere cazzo fa su YouTube bello Niki si se non è bannabile lo vuoi streammare no non è bannabile aspetta ve lo posso fare vedere picciotti io streamerei un episodio di Gmod tipo su Gesù ma una volta ragazzi ho provato a riportare Gmod banalmente anche come propante quindi come nascondino ma i problemi tecnici sono sempre quelli cioè per streamare per registrare Gmod in pieghi di media un pomeriggio fuori di testa Gmod ci incontravamo alle 3 alle 8 si finiva e la registrazione super giù durava 20 minuti non di più mezz'ora ma ma tutto il resto che non ci si connetteva bisogna scaricare cose banalmente che ne so io ho scaricato tutto il gioco e tutte le mod lui ha scaricato tutto il gioco e tutte le mod io vedo delle cose e lui non vede delle cose io mezzo e texture le vedo a cubetti viola e neri chiaramente con le stesse cose scaricate è incredibile come stragapo faccio il mio desktop ce l'ho condiviso però ma noi facciamo un po' di speedrunner vuol ricordare speedrunner ma aspetta se non avete mai visto questo video è credo di sì si sente? no no oh cazzo ah comunque è quello della terra e piatta ok sì allora sì sono i terra e piattisti sì sì ma c'è tipo il tizio che monta il video tipo è stato un grigino cioè fa troppo ridere con la cosa c'è quello con la via per il cu ma si sente l'audio o no? no non si sente no non si sente forse lo hai visto se hai il GoXLR dovresti provare a che cos'è GoXLR? GoXLR è il futuro allora aspetta che cos'è? che cos'è? è un prova no non si sente non si sente niente cabbo come stramichia fa audio speaker è un'audio pensata solo per streaming e video tube più o meno ah ok ok ti fa una traccia ah se no ci sta sync video ah per vedere quello sì se dura dieci minuti è un po' è un po' lungo ho capito comunque che il video è vabbè allora va su se vuoi puoi streamarlo tu quel cosa ci ho provato ancora ce l'ho per la scona aperta grazie non siamo sul Discord siamo su StreamYard che permette di fare alcune cose carine 20 euro di StreamYard perché cioè non è che sono di streamare il Dext per questione che non siamo stream la page non il Dext no ma questo su Discord funziona così è diverso questo è Discord che funziona così che fastidio perché non si senti forse devi fare video file può essere no video file devi scaricarlo e poi puoi mandare in onda un video che hai già che hai già sul computer che burro sta roba che burro sistemaci meglio Andrea vediamo allora ci facciamo fare un paio un paio di domande un paio di domande ma io sto leggendo sempre la chat quindi poi se capita qualcosa la posso mettere tutto a schermo cosa carina di StreamYard è tipo peccato peccato che si può leggere solo lì purtroppo è collegato al mio Twitch quindi in teoria adesso la prossima volta ci organizziamo meglio però con l'abbonamento che abbiamo pagato noi tipo ragazzi noi da voi c'è sta una cosa chiamata Covid e io non voglio vedere nessuno dei voi fin quando la cosa non sarà estirpata estirpata non avete capito per Camper deve essere estirpata pure la la variante Maldiviana che hanno solamente gli abitanti delle Maldive che non sono omicidi dalle Maldive e poi forse vi vedrà e poi anche la popolazione da quello un po' tutti penso grazie grazie Alexia le tappe di Palermo e Catania organizzate benissimo soprattutto ragazzi io ricordo la carta igienica e i sassi sul furgone preso in attesa i calci i calci e mi ricordo il papà il papà col figlio che prendeva a calci il camion oh che palle sta cazzo ma quanti cazzo eravamo poi un delirio perciò tra tantissimi io giusto l'altro giorno mi è ricapitato davanti il video di Brindisi altro ricordo la tappa di Napoli io non mi ricordo bello l'hotel te lo ricordi l'hotel ne parleremo liscio come l'olio l'hotel con le pistole quello no non c'era quello pistole non c'era pistole bilancini eh bilancini c'era anche la pistola pistola bilancino ma sto a casa che ho raccontato io in video quindi si a voglia e poi ce ne siamo scappati di notte tipo a Bari all'una alle due siamo arrivati siamo arrivati a Bari alle due del mattine ci hanno fatti cucinare le mozzarella è l'unica roba che avevano nel frigo le mozzarella e il pomodoro stiamo mangiando gli amanti della cucina va bene qualsiasi cosa ma le cose belle le cose belle di questo della vita nel dono e da voi è che tutti ci portavano i prodotti tipici dei posti che è il pesto te lo ricordi il pesto molti non ce la facciavano a portarli via c'era uno spreco molti non ce la facciavano a portare via c'erano stormi e brazzo che mangiavano mozzarella nei bagni dei tendri commerciali a morse ci portavano pure la pasta con le cozze tipo nei sacchetti che schifo ma i cesti di prezzemolo cioè ci portavano gli ingredienti per pezzi c'è un po' di prezzemolo dove lo metto questo che prezzemolo tantissimi cioè io a Palermo mi ricordo che facciamo le foto era una foto e un cannolo ero in qualsiasi caso sempre a magnavo mi ha portato un cannolo bollio mangiamo se no se ne potremmo portare che storia però però bello non rimpiango quei tempi è stata un'esperienza che cioè fatta sono stato veramente fino a averla fatta rifarla magari organizzando tutto un po' meglio in generale perché abbiamo avuto dei tour de force veramente incredibili ragazzi io ricorderò sempre le quattro tappe in quattro giorni partiti Nola provincia di Napoli Giuseppe Nola prima tappa Nola il giorno dopo si prende l'aereo si va ad Olbia Olbia il giorno dopo si prende il furgone e si va direttamente a Cagliari ragazzi Olbia e Cagliari sono nord sud e nord Olbia nord Cagliari sud e la Sardegna abbiamo fatto la seggia in centro non è il contrario Olbia nord Cagliari e giù in fondo non è Olbia sud no no Olbia nord no no sta al sud sta al nord sta al nord e nord est e poi e poi Brindisi e poi Brindisi quarto giorno tappa Brindisi che era il primo maggio poi era il primo maggio non viene nessuno non c'è nessuno sono nel mare è stata la tappa con almeno visivamente più persone che abbiamo visto mai in vita mia il record record sembrava e avete presente Lord of Mordor esatto il sole degli anelli 2 penso con gli Urukai quando ce ne sono infiniti davanti e tu sei in cima al castello con le frecce e dici ma qui non finirà mai infatti abbiamo fatto un evento su Omigol qualche giorno fa e abbiamo beccato un ragazzo che effettivamente era all'evento di Brindisi fa ho la foto ricordo eravamo che lanciava le frecce no hai fatto vedere la foto ricordo che hai facevamo le foto a 20 alla botta esatto e infatti lui mi fa e ho ho la foto ricordo incorniciata me l'ha presa me l'ha fatta vedere avevamo noi 8 e 15 ragazzini perché erano tipo le 11 di sera dovevamo farli più velocemente possibile la cosa sorta è che tipo magari tra di loro non si conoscevano però in quel secondo erano tutti amici si si io stavo cercando la foto ve l'ho mandata sul gruppo vero quella foto ti l'hai mandata sul gruppo quella foto storica quale? tenta le foto che mostri ci sono foto compromettenti no infatti sto cercando bene non posso non posso sbagliare non posso sbagliare vabbè comunque quella della io ricordo tantissimo i momenti all'interno dell'enjoy con spawn storm e morri c'è un sacco di video su whatsapp cazzo che ridere tutti insieme no angelix quale 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 a Milano e l'enjoy tipo a Roma cioè già mi prendevano l'enjoy per ogni posto in cui stavamo che avesse enjoy io guidavo sempre l'unico stronzo che guidava sempre io è il peggior posto in cui abbiamo rischiato abbiamo rischiato di alloggiare in quel posto però non non è cioè non è manco la città non è non è la città proprio colpa dell'organizzazione abbiamo trovato così ovunque anche io andrei stati a Roma una volta in un posto te lo ricordi quello in un albergo fuori di testa adesso non mi ricordo se fosse un evento nostro eravamo a Roma in questo albergo che aveva la carta da parati che si staccava si ok non ricordo faceva rabbrividire aveva tre stelle in questo albergo e dici boh sarà un albergo ok faceva vomitare faceva paura un altro un motel a Milano o comunque zona di Capriponte lo ricordate è quello che avevi gli specchi bellissimo io ricorderò che arriviamo stanchissimi all'uno di notte alzo la coperta peli peli erano stati buttati sulle lenzuola ma pieno di peli cioè chi si era fatto la ceretta completa e le lenzuola non le avevano cambiate quanto avevo io non mi ricordo sta cosa meno male quanto avevo bestemmiato con la direzione c'aveva la stanza proprio da andrà c'è Stormy che deve entrare c'era proprio la vasca il massaggio la cosa Stormy ha pagato 5 euro per entrare ciao Stormy buonasera buonasera ma io scusate ragazzi no io buonasera a tutti ma tutto sta soprattutto mi vedete è inadmissibile perché non è possibile che la sub di livello 1 e basta ma io ho fatto il posto peggiore dell'hotel intendo si sentiamo si sentiamo non ci sente non so io vi sento io vi vedo frizzato grazie Stormy per la sub per uno gentilissimo grazie grazie per gli otto mesi sta ricaricando tutta la cosa che è successo buonasera buonasera fa freddissimo voglio un po' la scritta da sopra voglio far sentire l'audio non c'è più Giampi l'hai sentito prima di farlo sentire l'hai sentito prementi fa ancora freddo in russia fiordo norvegese esatto che belli fiordi norvegese ho visto che stavate parlando di ricordi di pistole bufale tappa a Napoli con le pistole poi tappa no hotel anzi motel a Milano per il cotto di Capriponte ti ricordi ti ricordi com'era l'hotel no no io non lui è venuto da fuori lui è sentito lui è sentito da qui sono venuto ragazzi scusate ma l'avete allora io avete parlato di erano con te Sormi invece a Roma in quell'hotel bruttissimo tre stelle con la carta da parati che si sgrostava erano con te insieme ma forse erano quegli eventi che facciamo un po' divisi non mi ricordo con chi stavo in camera mi ricordo però quell'hotel benissimo perché avevamo registrato la prima prova a non ridere un format originalissimo e Camper con i meme dunk esatto e Camper non capiva un cazzo gli doveva spiegare i meme a Camper perché non c'era nulla io e Giovanni che ridevamo c'è Camper taglio lo spieghiamo a Camper provano a ridere esatto esatto io ho vinto quella prova a non ridere probabilmente sì certo certo ovviamente signori la comicità di Stormi era un po' diversa dalla mia dell'epoca bellissima no comunque bello bello quell'hotel me lo ricordo comunque per chiude noi tre mi sa che eravamo solamente in quel hotel e poi è un evento noi tre da qualche parte noi tre eravamo anche per il video di Giovanni Vernia che c'era il preservativo sotto il cuscino io non sono venuto è vero che schifo sì bellissimo a Roma sono tutti qui a Roma gli hotel c'era un bel preservativo Airbnb e c'era un preservativo sotto il cuscino e io faccio presente alla signora e fa oddio scusa non so come possa essere successo lo leviamo subito era bella quella casa però sì sì la casa era bella se non fosse per quello però era clickbait cioè abbiamo trovato il contenuto qualcuno ha fatto un video sicuro fatto sta che andiamo a iniziare il video con Slim Dogs per Giovanni Vernia torniamo e diciamo ok lei ci avrebbe pulito tutto torniamo e c'è ancora no no ma guarda che ho pulito figa c'è ancora lo stesso preservativo dove lo abbiamo lasciato e per favore lo vedi tra l'altro posso mi ricordo ma era aperto no 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 ma è quello di prima sì sì era aperto era usato ah sì sì era usato era usato cioè c'era solo l'involucro cioè non il preservativo la scatola un pacco di condomi sai l'involucro la scatoletta la bustina quella che la bustina una testimonianza per dire di fare sesso appunto protetto alla fine e forse da quel giorno che sto armi gira con la pistola UV per guardare i segni di sui gabinetti esatto ma poi di pistola UV eravamo andati a Brindisi avevamo segnalato varie vicissitudini strambe nel bagno di Brindisi mi ricordo è vero sì c'era il gabinetto completamente UV fluorescente dietro di piscio non pulito come tu c'eri già l'ampidec no alcune me le sono saltate Cristo Dojas ma ci siamo trasformati in NAS nucleo si con l'alluce UV esatto con l'alluce UV che cazzo è l'alluce UV no no l'alluce UV e praticamente l'abbiamo visto che c'era un sacco di pipi in giro dichiara ad un evento vi pentite di più ancora oggi io c'ho la risposta forse anch'io dai io uno per volta noi siamo andati a Udine Udine bravo sono venute una cosa come 15 persone 30 esagerando ragazzi era diluviava era all'aperto era il giorno delle giostre che a quanto pare era l'evento di Udine per tutti gli adolescenti che se non ci vai ti bullizzano e noi come quattro stronzi al freddo e diluviava eravamo fuori con un palco semi coperto e noi dovevamo fare questo evento erano venuti in 15 c'era tipo la proprietaria del centro commerciale che fa eh sì ma l'evento di Mattebis ne era venuta gente certo era Ferragosto e facevano 40 gradi praticamente in inverno non ti si sente Dexter non ti si sente Dexter ah sì magari ringraziava stava parlando stavo parlando con la chat ragazzi sai cosa tipo a era Catania penso a Palermo che ci hanno rinchiusi nell'area cani però devo dire che è stata un'esperienza anche quella a me è piaciuto Catania Catania cioè a un certo punto c'era troppa gente nel legato ma andiamo qui di fronte a questo parco no 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 non era l'area cani coi***o era che come era l'area cani no no era l'area cani con due la telecamera il discorso è che ci avevano erano arrivati i carabinieri a dirci che quell'evento in quel negozio non si poteva fare perché quel negozio non aveva chiesto i permessi al comune ci aveva praticamente fatto sloggiare da quel negozio e ci hanno messi nell'area cani di fronte perché l'area cani era recintata quindi poteva entrare la gente uno alla volta e uscire uno alla volta cazzo non mi ricordo se era l'area dei cani però io non la vedrei tra le esperienze negative è stata un'esperienza anche quella fa parte della vita camper il tuo sfondo è stupendo dai posso scaricarlo non è uno sfondo non è il green screen non è green screen beh bello bello io mi ricordo un evento particolare che mi hanno fatto c'era Andre forse Giovanni mi ricordo e Dexter Dexter aveva gli occhiali da sole è vero non si sa per quale ragione io sempre eravamo anche io sempre io ok Dexter mi hanno dato la roma dovevo vedere se trovo una cosa e al quel centro commerciale Leone forse qualcosa del genere comunque nord Italia c'è un anedito che non so se possiamo dire su queste è un po' antipatico Giovanni lasciamo io che abbiamo conosciuto Dottor D tra l'altro il ragazzo pazzo fuori di testa che ci faceva da presentatore poi è venuto pure a Trento un paio di volte ha fatto un po' di io inviterò Scormi solo per raccontare questa cosa perché sul mio canale è possibile farlo mi sa che su questa piattaforma non puoi farlo dobbiamo cambiare piattaforma poi giravamo tutti con questi occhiali io ce l'ho ce l'ho ancora lo possiamo raccontare in breve noi proviamo a indovinare i nomi delle persone sparando nomi a caso quindi quando magari la mano si 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 tu ti chiami Giuseppe 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 uno su due si chiamava Giuseppe e ci rimaneva di merda il fatto è che a Palermo erano tutti Giuseppe Giovanni quindi ne dicevi uno lo azzeccare il 90% salvatore Giuseppe Giovanni a Bergamo noi continuiamo a fare ti chiami Giovanni? ti chiami Giovanni? e molti ne abbiamo azzeccati poi arriva ne arriva uno e facciamo Giovanni ma io veramente mi chiamo Elettra gelo totale figura di merda figu de merda che storia ma io veramente mi chiamo Elettra bruttissimo non ricordo mi ero dimenticato sta cosa eravamo anche fusi a nostra discolpa eravamo figu de merda figura di merda devastante però vabbè ragazzi purtroppo capita che devi e poi però ci ha taggato ho messo la foto ci ha taggato si 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 un saluto Gianfranco vediamo Gianfranco magari c'è magari ci seguo ancora che ne sai magari ci sai esattamente no che taglio no ma uno degli eventi che comunque mi ha divertito è quando è venuto pure il sindaco il sindaco di di Castelfranco Veneto si è presentato i carabinieri i bambini poi tutti così ricordiamo Stormi unico idolo di Castelfranco Veneto cioè tutti erano solo per Stormi cori di Stormi a Stormi prima ho raccontato ti ricordi quando ci portavano la pasta con le cozze nei sacchetti che schifo si ma io mi ricordo allora io non mi ricordo se c'eravate c'eravamo tutti a Napoli però io mi ricordo forse no forse eravamo solo io murri e facchinetti forse ah ne avete fatto un altro il vero Napoli che a me non ho intanto ah no c'era anch'io c'era anch'io c'era anche Dexter no no era quello qui c'era facchinetti murri era una roba esterna la crew forse esatto mi ricordo io mi ricordo che ci avevamo portato un sacco di mozzarella a Dexter e l'abbiamo dovuta buttare al metal detector purtroppo l'abbiamo portata in aeroporto ce ne siamo mangiati quattro a testa però poi l'abbiamo dovuto buttarla brutta sì sì vabbè un'ora arrivi subito ma ti ricordo invece peccato eh Stormy ma ti ricordo invece a Nola grazie Teo dentro i bagni metti se la ho le mani noi con le mani dentro le mozzarella ti fa mangiare dai mangiamole se mangiare vabbè però sai cosa cioè la mozzarella alla fine te l'accolli cioè anche se te ne mangi tre chili vabbè poi sei giù appunto c'hai fame dopo otto ore che sei in piedi ti serve un gabinetto magari dopo però sì sì esatto è più di uno cioè ma c'è la cosa la sensazione ho delle sensazioni un po' d'ansia sì di quel giorno di quei quattro giorni poi no che sono stati che ha detto Camper prima che era Nola Nola perché siamo andati a Nola dopo tutto quel tempo siamo tornati stanchi siamo andati a cena vi ricordate siamo andati a cena a mangiare la pizza siamo andati a luna e passa a Roma dopo Brindisi dopo cena e dopo le quattro tappe e ho anche fatto un video che era sul biliardo è vero che c'era il primo video sul biliardo che ci ha fatto dire compriamoci un biliardo per farci i video è vero chi è Charlie D'Amelio qui in in Hall ma che tra l'altro io mi ricordo quel video non avevo partecipato perché ero collassato a letto e non riuscivo a registrare ad Olvi eravamo solo io eravamo solo noi tre sopravvissuti sopravvissuti al biliardo abbiamo fatto Mike Brazzo io e Andrea e forse basta no era 2v2 e poi e Sormi c'era anche Sormi ma mi sa che Sormi ha preferito andarsene a dormire ma non tutti hanno resistito 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 alcuni orari tra l'altro partiamo da Cagliari partiamo da Cagliari arriviamo all'aeroporto e Luca fa ma io il passaporto l'ho lasciato in albergo bene bene è vero è vero e lui guarda ce l'hai fatto in cazzo arriverai dopo noi ce ne andiamo esatto esatto me l'hanno portato però alla fine cioè sono andato io e mi hanno fatto avanti e indietro ma Dexter è sempre stato quello rinconiunito rinconiunito tipo Palermo tutti quanti scordati dalla polizia buttati dentro dal coso tutti così che ci urlavano entriamo tutti dentro io ho una serie di disavventure con i buttafuori se ti ricordi ne ho ben due il primo che mi ricordo a Catania sempre a Catania per da cazzo perché eravamo le daria cani ok finito l'evento torniamo in negozio anzi no scuola detto una cazzata è giusto era così no non era finito l'evento era finito l'evento era finito l'evento quindi cordata di bodyguard tutti in fila indiana io ero l'ultimo ero l'ultimo con le mani sopra sopra Spawn il bodyguard mi guarda chi sei? è un fan? mi dà una mamata sulle braccia e mi prende e mi butta via io finisco in mezzo ai fan vengo circondato dopo mezz'ora si stilla il telefono Andrea dove sei? Spawn Andrea dove sei? sono qua fuori torna torna lo stesso bodyguard mi prende e mi fa perché ti sei allontanato dal dal gruppo madò mi dà una testata ero ancora abbastanza timido quindi non gli ho detto nulla era ancora abbastanza timido quindi non gli ho detto nulla se fosse successo oggi oggi avrai caricato di insulti probabilmente denuncia denuncia abbandono di maggiore secondo seconda situazione Romix 2000 e credo 16 era Romix è vero era Romix che era un bella storia era Romix ero in macchina con Dexter penso ci fosse anche Brazzo non mi ricordo eravamo era prima non c'era manco la crew all'epoca se ti ricordi no no c'era c'era all'inizio no non c'era era prima ancora della crew è un Romix quindi diciamo che anche io ho avuto il mio primo esplosione su youtube non ero abituato ad avere dei fan usciamo dalla macchina Dexter prende e tira il rito Brazzo prende e tira il rito perché erano comunque diciamo scortati non mi ricordo comunque erano più abituati di me io mi fermo vengo inglobato dalla massa è finito 40 minuti torna fuori a prendermi solitamente sta cosa succedeva sempre appunto a Dexter no perché Dexter ma Dexter volontariamente perché Dexter voleva stare in mezzo ai fanno si buttava in mezzo è vero questo è vero ma ma io ho fatto i rincoglioni cioè nel senso che sì io non mi scorderò mai tutti quanti dentro tipo chi c'era c'era nel senso siamo entrati ci hanno lanciato dentro al Ducato tutti quanti così car c'è gente che prendeva calci dal taxi entriamo un due tre chi manca Dexter ovviamente era rimasto tutto al locale con Violetta c'era la meme ma in tutto questo Dexter dove stai ma in tutto questo Dexter vero 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 e poi c'era è successo solitamente era un momento di silenzio facciamo la conta e poi la frase poi la frase successiva era ma in tutto questo Dexter dove sta non c'era mai che borra e poi iniziò dal suo primo cioè dalla nostra prima primo raduno tra virgolette perché là non era manco un raduno organizzato che non esisteva non esisteva niente quello di Terni che noi non c'eravamo mai fatti vedere da nessuno cioè sempre sempre dietro uno schermo è stato il primo tra virgolette evento detto su su instagram così e siamo andati a Terni quando siamo arrivati là che c'era talmente c'è c'è il video vedi che pensavamo ci fosse 50 persone c'era tutta la città più le città vicine la gente che ci ha circondato ci ha cominciato io ho detto oddio 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 ora ci arrestano ora ci arrestano Mike che stava cercando dentro la macchina dei carabinieri che stava parcheggiata e non riusciva a aprire ha detto io mi fermo qua dentro mi faccio portare via a un certo punto mi rigiro c'era Mike qui che cazzo sta Dexter siamo tutti scappare siamo tornati in macchina a me mi hanno scordato grazie a Cidia Fumagalli grazie a Leonardo il leggendario grazie a Teo grazie a Cidia e al Manfred che taglio e ne mancava sempre uno agli eventi sempre uno ne mancava e quell'uno era Luca sì 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 era Luca era Luca beh poi le fiere erano veramente un tasto dolentissimo mamma mia che bestemmia le fiere bello bello il cibo il cibo che ci portavano tutto sudato sudato fino di sudore il cibo guarda è la cosa migliore in realtà l'olio della pasta con le cozze non era olio era sudore era sudore della cottoria ma alla fine dei tre giorni erano sempre senza voci vi ricordate tutti i video io avevo a casa che avevo sempre e immancabilmente l'influenza sempre e non era Covid e non era Covid pensa che fosse successo adesso un tampone al giorno il discorso è che a Milano era un conto poi a Roma Romics erano tre giorni e a Roma ci sono le tradizioni no a Roma si va a mangiare alle 5 a parte le influenze a Roma e finisci l'evento Romics alle 8 di sera ti prepari e alle 11 e mezza si va a cena ma domani alle 9 dobbiamo essere in fiera non potete capire c'è un amico mio che fa i meglio arrosticini di Roma bisogna andare da lui a un'ora da dove eravamo ah ma non ricordo questo ma qualsiasi ristorante siamo fatti di Roma perché Brazzo Luca mai conoscono più o meno tutta Roma se si sommano e quindi tornavamo alle 3 del mattino e il giorno dopo avevano una sveglia dopo 5 ore e volevo uccidermi pieni non avevo digerito nel cazzo però buono buono Brazzo ci ha sempre trovato comunque in posti buoni ah perché raga quando mi sono ubriacato per il milione di mech c'è ve lo ricordate quando era quando poi ho cominciato mi pare eh non mi ricordo noi non c'eravamo però ero era dopo Romics era dopo Romics dopo Romics sotto i portici sotto casa mia no ragazzi vicino casa mia vicino casa sotto l'hotel eh sì in casa mia stava lì vicino all'hotel all'Ibis mamma ragazzi che stavo male cazzo perché mi ha comprato la vodka scusa ma Rubino è quel Rubino o è qualcuno che fa fake non capisco come si chiama Rubino a qualcuno ha parlato il link di questa streamiera ah ma no ma se qualcuno l'ha fatto vedere per sbaglio ma la Sambuca tipo senza marca sono morto che era tipo 60% alcol mamma mia no ma c'è stato perché noi non ce l'avamo però bello bello mi ricordo la cosa figa di Roma erano le enjoy pagate da Jumpy tech ma hai rimborsato eh prima stavo provato su Whatsapp no non è vero io ti avevo sempre ridato i soldi però era bello perché provavamo in 5 quindi 500 kg su una macchina di 500 kg però era a sghiddare ma non ce la facciamo infatti ho detto questo perché c'ho i video su Whatsapp dove c'ho siamo noi dentro ma non è vero c'è qualche storia di Instagram forse che gira se mostri quei video abbiamo finito ma raga sono semplicemente pieni di bestemmi non ci vi niente però in giro sono troppo fornita solo bestemmi sì solo bestemmi ma poi eravamo cioè dovevamo fare sempre 500 metri un chilometro e ci rodeva il cazzo a prendere due enjoy quindi prendevamo solo una le 500 in 6 in 6 perché fa le sa telecamera porca trota mi si spegne in due secondi io poi ogni volta arrogantissimo mi inventavo una scusa del non sto tanto bene ho mal di macchina che non è vero stavo sempre davanti quindi c'erano stormy che è un armadio murri che era in pump e andrei in mezzo quando spendevamo le case airbnb tipo a so a roma o a palermo no a roma più che altro quindi la casa solitamente eravamo io stormy spawn jumpy murri io dopo un weekend passato con jumpy murri vi assicuro che avevo l'allergia alle bestemmi così tante così tante che a un certo punto mi sembrava di essere sproposito a bestemmiare allora le tre parole erano due malattie e una bestemmia giusto giusto comunque mi hanno mandato un video su whatsapp dopo guardatelo ragazzi signori da trentino che usa la bestemmia molto come intercalare ma ma io posso dire un altro livello è più murri che io dai insieme fate la combo voi siete fuori l'italista il vizio il vizio a me cioè secondo me me l'ha attaccato jumpy e murri perché io prima non ero così bestemmiavo tanto o mi è capitato in camera con jumpy e murri uscivo dalla casa c'è stato un camionista un braccio fisso al contrario sulla schiena con me e murri cioè era tipo l'anticristo io mi ricordo la casa a roma che prendiamo praticamente sempre arriviamo io stormy e andrea prima perché i treni sono diversi e poi arrivano jumpy e murri incazzati come le bestie non mi ricordo per cosa se non per il taxi erano sempre incazzati sono in prati hanno detto il loro modo della vita 25 parole a testa non c'era neanche un ciao cioè dopo ci hanno detto ciao ragazzi come state a proposito scusate ragazzi non c'entra un cazzo con cioè c'entra è un parallelo a proposito di incazzatori mi ricordo al matrimonio di mike shosha che io che io giovanni e le nostre ragazze insomma siamo scesi giù a roma e non mi ricordo camper come è arrivato comunque jumpy murri avevano preso l'aereo e poi avevano affittato la macchina avevano speso tipo mille euro un giorno abbiamo speso 400 euro per tre giorni tre giorni posso dire una cosa pietro fusco chiede questa cosa qua sicuramente camper potrebbe rispondere bene ma anche vi hanno mai minacciato di cacciarvi da una casa in affitto no no una volta una si eravamo a palermo no la villa roma la villa roma no no a palermo non ci potevano cacciare ma non ci potevano cacciare quello è stato dopo ho confuso il luogo si è roma 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 bellissima non so chi abbia avuto l'idea forse giovanni perché giovanni è l'amante del cazzo degli open space ci ha preso open space in sei ragazzi murri russa scorre russa no io sono leggero non riuscivo a prendere sonno per più di 5 minuti e c'era un solo bagno un odore in quella un solo bagno con i vetri trasparenti le idee del cazzo dell'open space di più bene perché solo lui gli appiacciono gli open space ma io mi ricordo sapevo già che andava a finire così ma niente da fare io mi ricordo che Stormy aveva fatto il video quello prova a non fare il rumore quello sì sì c'ero io che sono andata a cagare e si sentivano le scoresce l'ho rivisto di recente quel video hai invecchiato molto bene devo dire tra l'altro c'era il bagno con una porta a vetro offuscato ok però comunque tu vedevi che una persona stava pisciando o cagando o si stava segando hai proprio capito è brutto io che sono un amante della privacy stiamo a dire così oh regà io andavo a prendere loro la mattina con la macchina c'era camper tipo irrigidito era nero era nero non dormivo non respiravo non potevo andare in bagno tranquillo non si poteva fare un cazzo in quella casa avevo la morte io mi ricordo diciamo il tempo passato in bagno c'eravamo io Giampi e Murri che scorreggiavamo come dei mammut mi immagino camper così mi dissocio concentrato per lo sfarrare e entrano con gli altri che non ti poverà discarica o poi in quella casa entriamo e ci accoglie il pastore tedesco di 80 kg del proprietario ma chi quello è gigante Murri è un altro livello Murri è un altro livello Murri correva urlando perché c'era un pastore tedesco a circa 20 metri di distanza che storia quella sera quando rientravamo tardi facevamo tipo cercare 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 e lui iniziava a bestemmiare faceva così faceva no Giampi porco Dio no io mi ricordo che avevo lasciato la recensione negativa a quello quello ci ha detto ci ha risposto nella recensione di Google assolutamente mi si è spento questo porco 2 qua e ha lasciato le recensioni su Google dicendo che avrebbe messo l'avvocato ci dice ciao l'abbiamo cancellato tutte le recensioni che storia minchiare che quante cazze ne abbiamo combinate che minchiare qualche racconto riguardo le challenge di calcio io brilhavo sempre il traveso grazie quello non c'è dubbio Geroni ma racconto l'uomo nudo durante uno dei video che abbiamo fatto l'uomo nudo ok ne ho un aneddoto Palermo ultima sezione credo nel 2018 a Palermo ok adesso dico controllo perché si dovrebbe essere 2018 qualche racconto ricorda controllo quando Stormy si è tagliato metà barba aprile 2018 cominciamo il video cominciamo la sessione di video ci riconosce qualche ragazzino che andava lì per giocare a calcio ci riconosce uno chiama l'amichetto ci riconosce che alla fine c'era un delirio tutto lo zen a fine a fine giornata c'erano 400 persone e non dico un numero per pompare hanno 400 persone fuori calcate intorno al campo da calcio e non si poteva più registrare non si poteva più non si poteva più né registrare né uscire non posso lasciare né salire io lì a Palermo sai ma non so mi sono dimenticato forse in camera non lo so la maglietta da Roma tanto non l'avete vinto non c'è lasciato nulla alla fine un altro aneddoto un altro aneddoto della mia caduta quando abbiamo registrato il video di Stormy quella con il calcio non è Muri Vero che ho sbattuto la testa è uno stato Muri Vero sì bello infatti infatti tutti io dico sono una persona semplice mi dicono challenge di calcio penso allo stop di gole di Giampi allo stop di gole esatto che è bello che pena tutto per caso Stormy ha fatto un meme per sì poi a un certo punto diciamolo scoop allora i primi due i primi due erano veri cioè falliti proprio stop falliti poi è iniziato a colpirla davvero di gola proprio come capacità poi era un mix di Stormy che fa te la lancio io la palla e la lanciava scomodissima per i piedi perfetta per il collo tutte le volte esatto mamma mia ma ragazzi ma vogliamo parlare io mi ricordo quando siamo scusate ma lol questo è bello questo è bello questo era il video di brazzo era il calcio tennis quando sei fatto il ginocchio sì io mi ricordo è andato a web show con le stampelle esatto stavamo facendo il video del calcio tennis tempo due secondi tra l'altro ma stop stop solo una cosa raga mi sono rotto il cazzo io ve banno se entrate se avete trovato il link di questa di stream io vi banno non è sentato dentro vi banno quindi ma come che lo trovano scusami qualcuno l'avrà fatto vedere la chat però cioè sto qua che è prendo prendo basta mi sono rotto il cazzo ma ve lo dico mi tocca rifare la robita capo se volete mettiamo in pausa la stream 5 minuti abbiamo fatto però tanto non possono entrare no ma in Pusana fanno richiesta grazie vabbè io mi ricordo abbiamo fatto i video con Ron e Dredd 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 che tra l'altro Dredd non mangiava dei particolari tipi di tuc se non sbaglio c'era Dredd nella sua fase vegetariana e Brazzo che gli dà il tuc al bè no è da raccontare no è vero un'anedoto Brazzo sta mangiando dei grecker molto buoni questi grecker e tu quelli al bacon ah ma poi ha finito di giocare a calcio e Brazzo offre un po' a tutti vuoi anche tu Dredd prende mangia oh Bra buoni sono voi a che cosa sono al bacon è Dredd vegetariano ma io non lo sapevo e dice come no mi guardo tipo così e chi mi dà il bacon no perché ma sono vegetariano eeeh ne sapevo che tra l'altro adesso è ritornato a mangiare carne si te l'hai ricominciato adesso è ritornato quindi adesso bisogna riregistrare il video e poi offrirgli il tuc al bacon ma lì me l'ho rotto me l'ho fatto malissimo comunque nel tuo video infatti nel mio video di quello lì è troppo bella la presentazione che ti rompi e alla fine tipo ti finisce il video e se vedete quelle stampelle alla alla board come si chiama la tra l'altro io me l'ho fatto malissimo quella serie di challenge io l'ho fatta solo la metà perché stavo morendo di mal di pancia che non era mal di pancia era la mia appendicite che stava dicendo peritonite acuta infatti sono andato all'ospedale qualche giorno dopo e mi hanno detto cavolo sei ancora vivo? come è possibile? perché abbiamo fatto tipo l'ecografia alla pancia qui l'appendice non c'è proprio cioè ti è già esplosa parliamone tu stai per morire da un momento all'altro facciamo che questa signora incinta aspetta un attimo a partorire e operiamo te va bene se la metti su questo piano brutto brutto vero brazzo ormai brazzo ragazzi è più di là che di qua io mi soggio io mi soggio ho cambiato le camera adesso posso cambiarlo da qua adesso penso di sì passi alla C920 certo certo questa qua vediamo un po' mamma mia avete mai pensato di fare una canzone insieme da tutte le minate che lo tipo Boomer City Stormy non lo so ce l'avevo anche proposta ma chi è che ce l'ha proposta? mi ricordate quando ce l'hanno proposta? chi ne è? c'e l'hanno proposta però no ma ce l'hanno proposta proprio di fare un cd un album ah sì un album ce l'hanno proposta ma tra l'altro un album no l'idea era molto molto particolare perché l'album doveva essere tipo di hit del momento tipo vi ricordate Hit Mania Dance 2005? Hit Mania Dance l'idea era fare Hit Mania Dance 2005 più una canzone nostra e vendere i cd ma chi ti compra i cd nel 2019? parliamone eh l'idea era il 2018 sì c'era un po' di anni fa ma solo io vedo spawn frizzato? sì frizzato sì bravo fluidissimo no no se tu che sei frizzato cacciato tu bravo no no è lui che è uscito ha chiuto tutto perché hai fatto così nello stesso tempo è uscito no no è un time moment molto però in realtà non ho fatto niente lui che è uscito mamma mia altre domandine ragazzi dai sai su che c'è la cos'è? tra le vere collaborazioni crew con altri creators quale ti è piaciuta di più? non è che abbiamo collaborato tantissimo infatti vabbè oltre che con i ragazzi me la godo per quelle esperienze ai campetti abbiamo fatto vabbè splittate abbiamo fatto le canzoni con Giovanni Verri e con Gavri Ponte è stato molto divertente Gavri Ponte è bellissimo io ho potuto lavorare per la prima volta con Cane cioè per la prima e unica volta in realtà con Cane Secco tanta roba anche lì una di quelle cose che ho messo tra cose da fare nella vita fatto Cane Secco che tiene una telecamera mentre io faccio cose ah sì tra l'altro è fighissimo ragazzi a me quella è piaciuta tantissimo oppure è la canzone che ho fatto con Dexter con Cane Secco il rapper quella è fighissima e anche lì c'è la Cane Secco che riprende e anche lì c'è la produzione di Cane Secco ah Cane Secco che riprende Cane Secco Inception sì infatti è un meme era questo il meme del video di Gavri Ponte è incredibile ragazzi io mi ricordo lì avevo beh location incredibile fighissimo pistole eccetera e ho rischiato di farmi male con la pistola di Murri cosa hai fatto? perché perché praticamente c'erano due tipi di pistole quelle che sparavano a salve quelle che sparavano a fiammata e basta ah è vero ci mettevano anche effetto fiammata esatto io praticamente avevo la quella con effetto fiammata e mi sembra che alcune non facevano un cazzo praticamente Murri non sapendo questa cosa mi ha sfilato la pistola per scherzo me l'ha puntata in faccia ma ha sparato è sparato? no ma tra l'altro fischiavano un botto d'orecchie perché non erano le classiche quelle cappette del carnevale era una roba diversa no era proprio fortissima no erano quelle quelle che si sono proprio nei film cioè Stormy ancora deve capire come si dice con Fanta Twist due sono le cose che mi ricordo uno Stormy che non sa fare una frase banalissima di call to action non sapeva dire con Fanta Twist si continuava a impappinare con Fanta Twist sbagliava l'hashtag sempre la fa ripetuto 20 volte a un certo punto non ce la faceva gliel'hanno fatta dire parola per parola e gliel'hanno è overeditata in Fanta esatto l'altra cosa che mi ricordo è stata è stato anzi il video fatto per il canale di Mike quello in piscina fatto appena dopo sempre con Fanta Twist appena dopo si si ci hanno fatto fare questo video in una piscina dopo colazione appena svegli primo video della giornata io ricordo che ho fatto colazione il butto in piscina congestione allo stomaco ho sboccato l'anima lol mi ricordo faceva un freddo cane fa entrare le brazzo però sei ancora qui a raccontarlo tra l'altro era di mattina il brazzo deve entrare se non non mi fa più entrare tra l'altro mi cacciarono ha detto pure con brazzo qui divertente il discorso è che delle challenge in piscina con Fanta Twist io non sono un amante delle bevande gasate oh oh Giova Giova ho capito il perché non lo fa entrare perché? perché ha il blocco di quattro ore mi sa beh è arrivato un'ora e ventisei eh ma prima anche ci siamo incontrati per testare noi abbiamo pagato il streamyard però mi sa che brazzo avendo l'account normale possa ma lui può gioinare quanto vuole se cambia ip scusa riavvia il modem brazzo non è stato qua 4 ore potrebbe essere questo il problema non lo so perché mi siamo a stanno non mi fa più entrare invece di autorizzare youtube e facebook beh autorizza youtube e facebook io ho autorizzato twitch su facebook due dati cartelletto io non ho autorizzato un cazzo non mi sono manco registrato magari avete tipo due ore di trial o quattro ore eh non so che anche secondo me ci sono due ore di trial bisogna che il giorno dei casi tra mezz'ora io lo compro che cazzo me ne frega infà lo compro eeeh no la cosa delle challenge di Fanta è stata che eeeh avevamo a disposizione 800.000 bottigliette di Fanta capito nel senso niente acqua solo quello se tu hai vicino devi bere della Fanta perché l'acqua non c'era io non amo la Fanta non amo la Coca Cola quindi non le bevo quelle cose loro hanno fatto colazione si sono bevuti un litro di Fanta e poi hanno fatto il video in piscina nuotando vestiti al freddo quindi c'è chi ha sboccato chi si è ammalato tutti hanno io stavo benissimo che burro che ridere però quelli però quei video erano belli mi sono bevuti in buono quei video era stata una dei nostri primi prodotto piazzamento fatti bene belli inserito al signor Bruno inserito al signor Bruno esattamente grande Bruno grandissimo soltanto con l'hotel di Varese gigantesco una villa tipo si una totale di turismo più che villone noi c'eravamo le gomme a attaccare sul soffitto oh no ok questo è quello vero eccolo brazzo come hai risolto autenticandoti si però non ho capito perché vedi i team brasiliani pensano che siano hacker e dicono beh oddio no credo che sia perché c'è tipo forse una stata di prova massimo di tempo ci sono 4 brasiliani secondo me vengono esclusi da questo programma non so perché ma io ero pure loggato prima poi vabbè abbiamo risolto ma si ma si ah però stavo parlando delle challenge in piscina che abbiamo fatto per Fanta ti ricordi si ti ricordi che io ero buttato in piscina e tu sei morto e sei andato giù te giuro stavo affogando insieme a lui raga certo punto mi vedo io stavo morendo perché già stavo morendo io che dovevo un fanno indietro tipo così toccava la punta e ritornavamo indietro mentre tornavo mi guardo vedo lui che stava appoggiando così io guardo ma che caso sta a fare io ho solo un mezzo formone però quando mi avevi detto ho solo un mezzo formone non ce la faccio tipo cosa ho cominciato a notare ho cominciato a piagli tipo che che ride ragazzi mi stavo affogando siamo tutti disabili stacri che ride che ride c'era una domanda prima a schermo una domanda sui brand esatto con quale brand ti piacerebbe collaborare fighissimi con l'amborghini di petroari a parte quello ma Dexter Dochet ma Nike Adidas quella roba lì ti porta a fare cose fighissime come Dexter ci insegna cioè aspetta non ci ha chiesto con cosa hai collaborato no ti piacerebbe ti piacerebbe ti piacerebbe di crew io direi lo sai che cosa io direi tipo come diceva Giampiede qualcosa delle macchine ma raga ma visit Dubai quelle cose da gente che fa i viaggi di influencer voglio stormi in a casa sono troppo il culo pesante aspetta aspetta io voglio dire una cosa vi ricordate quando ci avevano proposto non so se a Stormi o non mi ricordo il la Turchia il coso in Turchia sì a me pure aspetta a me pure a me è arrivata una mail chiedendo se Leo fosse interessato a un trapianto di capelli era una ditta italiana era che un'interia c'era in Turchia c'era in sede a Verona quella che voleva lo sponsor sì sì no io turco io turco c'era c'era l'Oglou i turchi hanno stormi stormi togli il cappello come sei messo sotto con un kebab no non si può togliere Giampidecca come se mi lo togliere sotto no 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 c'è un'altra tecca un altro cappello è brazzo però che cazzo capito fai le sue domande mi so mi so ho fatto il cappello quindi c'eravamo il viaggio in Turchia sì sì ma si bisognava partire tipo per due settimane una roba del genere sì 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 un giorno faremo faremo lo speciale in Turchia io che mi stanno aggiungendo Murri io io gli ho i capelli da trapiantarvi eh io stavo a dire la stessa cosa io a me c'è un po' qua comunque mi sta creando un pertugio eh quella ha pure Giampidecca io c'ho c'ho la fronte spaziosa però dai ancora quello pure io qua da sta parte soprattutto è un po' più spazioso certo adesso si osa dire spaziosa non stempiato spazioso esatto termini tecnici una volta c'è rimasto male che c'era tipo il video riconosci gli youtuber da un dettaglio e Snitex l'aveva fatto lui tipo ero venuto fuori io e fa ah con questa fronte così spaziosa è sicuramente spawn ma che cazzo vuoi e da quel giorno tutte le volte mi guardo allo specchio e noto la mia fronte spaziosa e dico ma sarà così spaziosa boh vaffanculo non voglio domandarmelo ma che cazzo ma che cazzo vuoi che cazzo tra l'altro ragazzi Snitex è uscito dal covid l'ha preso brutto l'ha preso davvero sì sì è brutto pesantissimo sono quei video se non volete essere ipocondriaci è meglio non guardare no non vedete lì l'ho servito il video quello di della penitenza chi ha fatto a casa di brazzo con Snitex quella del latte ah che schifo che schifo è che era proprio trash il video ho portato il video infatti non lo vedete infatti io ne ho ancora visto penso non me lo ricordo è il video più trash sul canale di brazzo forse sì secondo me sì dopo quello con Sniper Laila io non ricordo certe cose se metterle a contarmene non velo male sono aperti grazie con Sisa Spag grazie fraccanto 17 grazie a te quel video con Laila apparentemente era un doppio senso su tutte le cose ah ok forse ce l'ho a presente tipo a giocare slitterio a Gario era a Gario a Gario a Gario sì che bello a Gagar.io era una merda quel gioco però faceva le views quindi va bene in chat ci dicono Dexter ubriaco nel video con Pazzini ma sapete che c'è gente che è ancora convinta che quello fosse Pazzini davvero eravamo in un albergo non mi ricordo dove a Torino Torino può essere Torino Torino Comics il pazzo era Torino sì e Pazzini è chiamato così perché assomiglia al calciatore era un dipendente dell'agenzia nostra amico di Facchinetti è un po' che non lo sento però ha i suoi da fare ecco adesso giustisci i cantanti quelli famosi e ci accompagnava in tutti gli eventi lui si divertiva un botto con noi e un giorno vede che Muri si è comprato un litro di Amaro del Capo non so cosa fosse Sambuca Modka e fa ma cosa fate bevete ah facciamo un video ah peccato se avessi bevuto benino anch'io vieni fai il video con noi rum e pera ecco tutti come le romperle ma poi che cazzo di vedere ma ancora lo ricordo come non è Pazzini come non è Pazzini no distrutti la persona che gli assomigliava molto Scoop incredibile una confezione ah la confessione challenge ci pure abbiamo fatto una roba simile una confezione challenge tutte le trashate più trash immaginabili cazzo è la confezione challenge abbiamo fatto una confezione era un video di Braz abbiamo fatto dovevi dire ah si due cose due cose una vera ah ok ah perché tra l'altro voi siete stati non mi ricordo chi non mi ricordo chi voi siete stati diciamo i creatori del pool streaming di Twitch facendo il video in sauna qualcuno di voi ha fatto il video in sauna Murray Mike Jumpy esatto esatto all'inizio di tutto poi si è creato tutto questo quel video cazzo quel video è trascito una merda picciolta ma ti ricordi Murray in mutande eh no Murray in mutande portare lo champagne mi è caduto mi è caduto posso raccontare questo aneddoto questa cosa al foro vai 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 che noi stavamo tutti là dentro dentro la sauna così chiediamo una da bere a cosa uno sfumante guarda come gli mettiamo il pro in realtà di la verità in realtà noi gliel'avevamo chiesto l'avevi dimorchiato te dai di la verità di la verità c'era il proprietario comunque dell'albergo che faceva ragazzi cioè capito era un po' un po' vabbè era tratto da brazo grazie per il radio se vuoi passare ti passo il link e praticamente che succede succede che noi ci buttiamo tutti dentro la sauna e lui a un certo punto arriva il tizio e fa ciao ragazzi che sarà di notte poi era perché la sauna era chiusa era di notte l'ha aperto solo a noi e ha fatto ciao ragazzi oh e c'aveva il champagne con tutte le cose però voleva sta pure lui guardiamo e facciamo oh grazie lascialo pure là no e questo è rimasto un po' così preso se n'è andato c'è un po' vai muri valla a prendere muri si mette l'asciugamano tipo così tipo si mette l'asciugamano così quelle ceciabatte bruttissime in seguito e cominci a camminare metti un po' tutto schermo camper fa bannare adesso no 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 c'hai i pantaloni si 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 cominci a camminare immaginate lui muri con il coso così con il vassoio c'è tutto mentre cammina fa così tipo gli casca il coso rimane con le gambe tutte strette così che si vergognava con le mutande e noi ho cominciato a ride perché non si stava senti male tra l'altro che muri porta gli slipini bianchi esatto slipini bianchi e ciabattine quelle là che ti escono le dita davanti per favore metti il mio schermo camper no no il desktop si ah ok scusa se non stavo intendo stavo capendo il desktop no spesso quanto è bannabile sta roba vabbè sono maschi oddio no no siamo nudi ah è in pc è contestualizzato su twitch contestualizzato è contestualizzato è sì sì ma sfortunato eravamo insamone eravamo insamone peccato non si sente l'altro guarda che secca mentre gli casca mentre gli casca forse si vede mentre gli casca non so se si vede mentre gli casca guarda un po' prima un po' prima la scena è bruttissima che ridere il tasso di criminalità all'interno da quella sauna era altissimo mamma mia picciotti che ridere ma si identiva l'audio tra l'altro no vero no no che cazzo tra l'altro pure in un altro albergo c'era tutta la sauna e la spa non mi ricordo dove forse quella a Bari che era a Bari si a Bari c'era Bari c'era Bari è bello tutti in sauna ancora 5 stelle fantastiche rifacciamo di nuovo i video in sauna in bagno turco non mi ricordo se è Murri o qualcuno che entra in bagno turco con la webcam raga non si vede niente ma va è tutto va fuori io lo bello che video stiamo usando Stremiardi grazie a Rihanna grazie a Leo dell'abbonamento grazie a Coltisa no che taglio no serio comunque di video cringe ne abbiamo fatti ma innanzitutto innanzitutto hai visto con te era secco Murri si un botto mamma mia ora è tutto tutto steroide grosso non mi dissocio mannaggia che taglio ragazzi quali altri video cringe abbiamo fatto così tanto per nomina un format l'abbiamo fatto sia normale che cringe che bannabile probabilmente ma basta andare sul canale di Dexter no non ci andiamo sul canale di Dexter c'è roba di cui ci vergogniamo tutti c'è roba che ha scatenato anche guerre guerre LGBT LGBT mamma mia apparato challenge è vero apparato challenge bisogna vedere qualche video vecchio cazzo eh sì mi sa che a un certo punto infatti infatti quel video non so per quale motivo ma non è ancora in rete vero o sì o le video di che sono da parlare vabbè ma nel senso sono altri tempi raga era un mondo era quel giorno là che dal nulla se ne esce perché noi facciamo tutti i video tutti i pensati no tipo raga proviamo a fare sta cosa facciamo un video così se ne esce Dexter oh indoviniamo quanti anni c'ha sta tipo ste ragazzine indovina l'età no Luca no ma se è per canale mio va bene va bene ci vieni no diceva tutte le cose strane tipo sì sì cioè tutti i video più trash se ne usciva Dexter con questi video ma come il stragazzo scrivi di Stormy comunque un video che il titolo che ha scritto Gnarni e io ce l'ho demonetizzato quel video ancora c'è un video e non posso dire il titolo del video vabbè sono quelli con la macchina della verità scriptata che io ho provato a battere lo script della macchina scriptata me l'hanno resettata di nascosto non è successo e ho dovuto dire quello che non volevo dire c'era la macchina della verità che avevamo capito lo script che era niente scossa e poi da lì in poi solo scosse ti ricordi? a proposito dei video cringe allora io mi ricordo che c'era il periodo di Colaf poco fa l'abbiamo parlato ok allora non io mi ricordo queste 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 rimembranze di camper vestito da dentro la Trigoria dove era? madonna mi piace sempre ricordarlo allora contestualizziamo Dexter aveva una collaborazione con la S Roma se tu immagina con la S Roma c'era Roma Juve Roma Juve quindi Dexter dice ascolta vieni ti invito a vedere Roma Juve allo stadio tutto pagato bla 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 e gli fa Colaf no allora non era andato così era andato che il perdente doveva fare una penitenza sì ma mi sa che il video era anche già scriptato però io se dovessi perdere io ma va bene allora voi immaginate la scena devo girare il girato con col col costume da Colaf ci mettiamo un angolino di Trigoria a un certo punto finisce l'allenamento dei calciatori che cominciano a passare tra le nostre spalle e andare diretti in spogliatoi alcuni occhiatacci altri scopriano a ridere passa Florenzi e fa porca madonna bella quello che devono capire cioè voi immaginatevi camper che si dissociano da qualunque cosa abbia colore ok quindi pensatelo dentro un costume da pupazzo di neve ok cioè è quella la scena quindi dovete cercare di medesimarvi in Andrea questo tipo di Andrea tutta gavetta una volta non ci invitavano quindi dai una partita gratis che fai te la vedi ma si dai andiamo a Roma tra l'altro tra l'altro se ti ricordi Dex ci avevano messo in un posto de merda eramo tribuna centrale ma bassissimi non si vedeva un cazzo della partita praticamente la seguivamo attraverso nel monitor nel posto davanti complimenti ma è comodo vabbè ma però ma però non si dice però Andre cioè lo stadio olimpico possiamo dirlo anche se siete rocci cioè fa cacare rispetto a sì fa schifo fa schifo perché penso sia anche uno stadio non solo per il calcio no anche per la tradizione ma per il calcio non li tieni nemmeno se sai che non si vede un cazzo eh ma lì e lì e lì sono quelli più costosi per farsi capire e non vedi nulla non vedi nulla io mi sono visto mi sono visto Roma Liverpool no la semifinale il cazzo era lì te giuro che stavo in piedi dicevo ho fatto ma sta segnando ma chi è che mi hanno tirato ma è calcio d'ango ah no ha preso palo non c'era prospettiva cazzo si vedeva niente infatti ti mettono apposta i monitor sul sul posto davanti che faceva schifo quel posto che poi a Roma avete fatto noi non c'eravamo avete fatto la challenge quella con le scritte illuminati crone che figlio benificata stai romanista stai romanista lì ci ha salvato ci ha salvato il culo Dexter che ha preso il culo del Dexter era partito te giuro mi avrei dato manco un euro manco 50 centesimi un tiro tutto sport Dexter ha la sua tecnica quello che volevo di prima io è se sai che quei posti non vanno bene per partire di calcio non li vendere non li usi non li usi dici quei posti non si usano andate da un'altra parte non li usi se non si vede niente o li regali agli ospiti come hanno fatto loro ecco così ma la cosa bella di quei posti è che la poltrona all'olimpico quel posto dove c'è pure la tv che vedi sky sono anche riscaldati quindi quando stai con l'inverno che siamo dentro allo stadio stiamo tutti a cagassotto io stavo là così ah bello caido stai in agrema ma non vedi un cazzo vedeva partito in tv guardi a casa comunque su sta cosa la vedeva in tv a noi una volta ci hanno invitato cioè più di una volta in realtà ci hanno invitati a vedere la juve nelle mini suite beh lo stadium è fantastico e tipo arrivavano i camerieri con tipo primo, secondo, terzo, quarto cominciava la partita e continuava a partire a mangiare infatti erano tutti fuori io finisco di finire il mio champagne già che sono qua tutti fuori arrivano nel calcio e mi guardavano a mangiarmi la roba io tra l'altro ho saputo una cosa del genere da questo ragazzo con il Milan? sì cioè non con il Milan ma con questo ragazzo che ha una sky lounge sky lounge a San Siro e con dentro Enrico Bartolini che cucinava che è tipo uno chef tre stelle Michelin dentro no figo figo che ricco che sei Stormi ma Stormi ha gli amici con gli contatti gli amici ricchi con il Carrari l'unico povero sono io ragazzi esattamente però bello bello però sai cosa è il problema di quelle robe è che tu non ti godi la partita se devi andare allo stadio devi stare lì a fare casino se stai lì a berti il vinello le cose è diverso sì sì però ce l'hai vai per cacciare vai lì per far cacciare esperienza diversa però bello beh assolutamente tu Giampi non sei mai andato allo stadio io sì una volta beh è venuto a fare Juventus Adidas c'eri anche tu Giampi no aspetta come si chiamava quando abbiamo fatto il torneo di Adidas no non c'ero c'eravamo io ma forse Morricera Morricera no mancavate voi perché non potevate no io non c'ero se non sbaglio era Mike Brazzo io Stormi Andrea e basta credo è stato fighissimo fighissimo in una di queste Morricera se non sbaglio ah sì Bertro e Fanto è vero che mancavate voi due abbiamo rimpiazzati con Bertro e Fanto allo stadio olimpico figata però figata cazzo io non ero in un stadio e doveva essere una partitina con i vincitori di un torneino 2v2 di Adidas che coronava nella partita di Juventus Stadio un contro di noi o in squadra miste oh ma questi probabilmente ragazzi adesso sono nella primavera dei Juve-Milan-Inter Roma-Napoli-Lazio nel senso erano dei fenomeni questi ragazzi però posso dire io mi ricordo io mi ricordo una roba ragazzi scusate a proposito di questo vi ricordate le allora grandissime cioè Adidas fa delle ottime scarpe no però quelle scarpe che avevano dato ad alcuni di noi erano rasoi non so se chi è che aveva quel tipo di scarpe c'erano delle scarpe ragazzi io mi ricordo quelle zebrate tipo delle scarpe particolari quelle senza lacci senza lacci ma sono scarpe da tipo 300 400 euro sì sì che tipo tu te le metti e ti tagli la caviglia ma ci vanno malissimo io tra l'altro con le scarpe non usandole mai ho detto vabbè le ho usate una volta sola posso posso darla a qualche amico che gioca a calcio fa eh sì non è il mio numero non è il mio numero le metto su ebay vedo se qualcuno me le vuole così almeno le do a qualcuno oh ma queste scarpe qui sono quelle che hanno usato gli illuminati allo stadio se per caso spawn è per caso il tuo numero cancela l'annuncio però sono un bel ricordo ogni volta che i miei amici mi vedono per il calcetto quindi una volta ogni sei anni metti quelle scarpe io le metto flex un pochino flex poi mi vedono con le mani in tasca in attacco mi dicono ok Giovanni tu non vieni più va bene eh ve l'ho detto che non volevo venire costavano un botto tra quelli noi abbiamo almeno tre paie di scarpe che costavano tipo un boato tra l'altro quelle migliori erano sempre quelle della decathlon da 20 euro che erano fatti di lana eh era morbidissime sì sì aveva Muri con le sue scarpe decathlon acquisite solo per il video al campetto era il più comodo di tutti vabbè meglio jumpy deck che viene con i pantaloni dalla fila dalla fila e i calzini bianchi no no sportica c'era Dexter con le scarpe autografate da Ronaldo la maglietta autografate da Totti e jumpy con la roba della sportica ma poi che cazzo è sportica al mercatino ma che è sportica jumpy jumpy tipo vive di vestiti comprati dalla mamma a 15 anni che sono ancora lì perché l'altezza non è variata quindi è aumentato il peso la circonferenza però l'altezza non è variata Dexter faceva le pubblicità arrivava in campo tipo si illuminavano gli scarpini tipo così facevano le luci che arriva che taglio no ma siamo divertiti oia ma adesso allora allora a giugno a giugno papà brazzo viene in Italia torno in Italia probabilmente faremo qualcosa io non te vedo brazzo la variante brazellina se l'hai già fatta è passata ma io io so io so già vaccinato dal corona ma tu non sei ma non le fanno la azienda che fa il beer ma voglia ma stanno a fa però sta a 60 anni sta a 59 anni stanno a fa qua adesso vabbè tu ci stai arrivando coglione vabbè io ho una dose di beer morri pure brazzo pure apposta raga possiamo partire ragazzi io è l'unico forse no io e camper l'abbiamo fatto anche io non l'ho fatto che cosa? il covid? noi del nord e Luca anche e anche Mike in realtà anche Mike solamente brazzo i palermitani l'ha fatto ma perché Mike Mike è invernato dentro casa non esce dalla sua casa è perché noi no è così che non si prende il covid spoiler io attraverso la strada e vado dalla nonna easy di cazzo è così che forse l'hai preso Stormy forse sì no l'ha preso la mia ragazza a lavoro probabilmente magari assintomatico l'hai fatto sicuro 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 però però va bene così e io vi farei vedere dove l'ho preso ma guarda l'immagino e non ha preso solo quello esattamente c'è anche il brazzo arriva in Brasile inti una pandemia vedo amico del discopi ho già capito come l'ha preso ho preso ho fatto una merita del sangue l'altro giorno per provare un po' tutto no? per vedere se stava un po' su colesterolo mi raccomando tutto ho fatto tutto tutto sono più pulito di 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 mamma mia che uomo buono sono sono a civimento da sbloccare importanti hai convinto hai convinto camper adesso a fare cosa a fare sesso con Brazzo mi dissocio signori di Twitch sì no no dissociiamo contestualizzato contestualizzato ho capito che storia proprio Brazzo quante storie da raccontare che c'ha niente no potrei potrei scrivere un altro libro ma scrivi un libro Brazzo Brazzo Adventure cioè lui si ha fatto il Luismo tu dovresti fare il Brazzismo il Brazzismo e spieghi come funziona con come ti fa ragazzi li comprate una casa in Brasile che non costa un cazzo con una villa da 8000 piscine avete la sicurezza privata e fate i pati ma bellissimo in realtà c'era un libro che aveva camper che erano le perle degli illuminati quella era no l'ho perso no è perché avendo cambiato cellulare ho perso le conversazioni di Whatsapp e quindi ma se ce l'hai sul drive ve le puoi recuperare in teoria se accedi no cabbo cos'è che c'era lì tutti gli aneddoti successi tutte le cose dette nei video era il libro delle citazioni era un libro di minchiate di ricordi tutte le citazioni più divertenti che uscivano fuori sui nostri gruppi di Whatsapp le me le ero salvate però poi è andato a farsi perdere magari sul drive ce l'hai sul backup di Whatsapp ce ne erano certe di brazzo mamma mia ma lei mi hai mandato sul gruppo no forse ti dico non era sul drive era un file di war ce l'ho sul vecchio computer mi sa eh lo recuperiamo sul vecchio computer ce l'ho sicuramente nelle conversazioni delle cose com'era citazioni ragazzi della chat lo recuperiamo e ce lo leggiamo tra di noi voi non siete compresi sennò ci bannano tutti probabilmente io non ho mai cancellato se fate se fate la ricerca trovate se andate su Whatsapp e fate la ricerca il libro delle citazioni lo trovate perché io avevo il file su un file di word e poi ogni tanto quando volevo aggiornare prendevo tutto copiavo in collavo su Whatsapp e vi mandavo non solo le citazioni grazie Kelly grazie Stephen O'King per gli abbonamenti bisogna scrivere manco un libro no nessun messaggio ho trovato il super f mi ha scritto bene citazioni aprino OnlyFans dove metti questo libro ecco ho trovato qualcosa tipo citazioni dal libro delle citazioni se dovremmo parlarti eh questo era degli appunti che andrà a mettere questo deve andare nel libro però ti puoi dire qualcosa se forse prima aspetta sto salendo no sopra non c'è più niente cazzo ma Brazzo non ha mai cambiato ma Brazzo non ha mai formattato il telefono ah io non ho mai fatto un backup in vita mia ma Brazzo che cazzo te ne frega li ho scoperti recentemente no non ce l'ho aspetta Brazzo ma perché a proposito non ti apri un OnlyFans ma io io l'ho detto allora no c'è una cosa in corso a 300.000 euro se 300.000 euro io Brazzo facciamo un porno non facciamo un porno con attrici e lo metteremo su su tutta piattaforma ok a 300.000 euro dove non ho capito eh 300.000 euro donati donati ok se vuoi partecipare a voi se vuoi se vuoi 100 euro mi fai 5 euro e ci sto prima mi risocio comunque shaky eh comunque OnlyFans in realtà in America lo usano anche per tutt'altro oltre che per le cose ma io ho detto che farei pure gratis non era quello no camper su OnlyFans ragazzi sarebbe incredibile ho visto che va di moda adesso ultimamente appunto su Twitch e le banane in mezzo alle gambe in piscina camper potresti proporre questo contenuto c'è uno streamer che mi fa troppo ridere che è un uomo che si mette i palloncini qua ah l'ho visto ieri l'ho raiato fa spaccare la barba fa spaccare e imita tutte le streamer ha il microfono con due orecchie finte appaccate ai lati e lui fa tipo tutte le porcate smr si esatto e se scrive i nomi ti ricordi almeno una delle citazioni che almeno cercherà eh sì ma non posso dirla scrivilo qua ti potrà non me lo scoperei manco con il punti di puntini quello era una citazione del libro è solo di ritrovare con questa cosa vado a prendere un bicchier d'acqua anzi qualcosa da bere ma tu hai delle preferenze per quanto riguarda streamer o attrici particolari non ho capito io ho preferenze sì sì preferenze di un brasiliano una streamer o un'attrice di qualche film youtuber insomma con cui ti piacerebbe collaborare a livello proprio insomma contenutistico ecco only fans contenutistico soprattutto c'è una ragazza chiama Pornostar che mi segue attenzione ragaziana no italiana sì sì ho capito che ho capito che è e mi ha detto l'altro giorno vorrebbe fare un video ha detto ok facciamo un video per il canale mio o per il tuo e ho detto ha detto va bene ci sta ma la domanda è perché Dexter tiene il microfono in mano perché vabbè c'ho problemi c'ho problemi c'entra FIFA comunque questa Borno Star segue solo mette della crew ma è famosa abbastanza ok ma possiamo dire l'iniziale posso vedere solo il punto però vogliamo dire ha una particolarità questa Borno Star la possiamo dire fa solo anal esatto no sì 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 oddio non hai associazione niente il mio portfolio di conoscenze ma ovviamente non vado tiene la vagina per il marito esatto forse sì e tra l'altro quella bottiglia di birra più o meno è no ma è un'alcolica dai 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 è un albero di cil perché purtroppo in casa non c'ho altro ok vabbè sembra il cilindro è l'unico che ha capito ma vabbè è la birra per la birra no penso che hai capito anche io cosa intendessimo sorvolato è l'unica cosa che ho in casa in questo frangelo non c'entrava con il grado alcolico ma con diametri Dexter ma vabbè posso chiedervi una cosa proprio non lo so ma su Twitch puoi bere la birra sì si si può bere la birra panetti fa le peroni con panetti tu puoi anche bere super alcolici l'importante è che non vomiti e sbratti ah ok perché non è più contestualizzato no perché non è questione di contestualizzare non puoi sbrattare fine ah non puoi vomitare ok perché sarebbe sarebbe che quindi sei ubriacato fino a farti del male e farsi autolesionismo sì ok ma ragazzi se reggi tanto l'alcol e ti scoli una bottiglia di vodka a Twitch non interessa l'importante è che non vomiti ok ho capito ho capito ma ragazzi a proposito di cose di alcol ma sbratto crew era iniziato perché con le patate no perché vomitava le patate non mi ricordi che vomitava sempre stomaco deboluccio ma il bellato stava mangiando due chili di patate la sugo mentre muri si mangiava i grilli e gli scorpioni a fianco penso una cosa del genere no sì perché raga io c'ho un problema che io viaggio e la camera e la camera ma che porco dilla dilla dillo dillo vai perché mi fatti un montaggio di tutte le volte che durante questa live si è esplosa la cam di brazzo ma non so che è successo oggi capire l'hai ritorno una volta forse no no perché Gabriele c'ha gli esami di maturità in questo periodo quindi e praticamente mi è successo che cazzo stava a dire ah sì i grilli sì no perché apparentemente io mi medesimo troppo nel senso mi immagino empatico empatico sta distruggendo tutto ragazzi ho svitato il microfono e praticamente la volta proprio che mi sono sentito male se hai visto pure in live è il pezzo subito dopo il video le patate al sugo dopo due chili di patate stavo talmente esplodendo talmente esplodendo che subito appresso Murray si è messo a mangiare di scorpioni scorpioni tutti con la cremina io così che ridevo in piedi fortuna c'è un erbagno dietro c'era tutto vedo Murray che fa un campione di conati e come fa così e cade un pezzo di conati lui fa tipo la faccia io fa tu ho cominciato a correre verso il bagno mi chiede la turca era tipo io sempre rotevo brumotti disse c'è notizia che ti rincorrevo con la telecamera perché non volevo perdermi niente e si vede solo per mamma mia tutto 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 fanno dal sugo dentro la cosa e da lì era nato poi sbratto crio allora ci va detto che Murray ha sempre avuto molto coraggio e anche una sana dose di autolesionismo si a Murray si cioè lui mentre mangia uno scorpione vede un milione di visual e dice si secondo me si fa prendere a pugni nelle palle perché non c'è ti farebbe pure sparare in testa per le più ma l'ha pure fatto ma penso due volte si è vincito a pollo e gli abbiamo sparato col paintball no regalo da coniglio da coniglio da coniglio tra l'altro ho proprio detto che è rimorto ma salutiamo Murray che in questo momento sta scopando se non sbaglio no sta dormendo da almeno tre ore raga minimo ma va a dormire ma va a dormire così presto lui si si a dieci e mezza da letto c'è la mamma che lo manda a dormire ma l'ha fatto sta educato c'è la sua c'è la piano di sotto e gli dice a dormire ma è contigua questa cosa nel senso sono c'è qualche piano di differenza se no si sente tutto il casino insomma significa contigua scusa cioè sono allo stesso cioè sono un piano sotto c'è il piano sotto sta la no 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 vabbè non si dice ok non si dice ragazzi scusate io c'ho gli audio delle donazioni in camper che penso che potessero essere divertenti però mezzi sono una serata infatti no l'ho tolta perché sennò viene per ogni sub comunque domandavano questo tipo di live è carino perché non portano anche murri e qualcun altro la prossima volta si l'idea che magari ogni tanto le rifacciamo e magari c'erano anche mike e murri fai una videocamata a murri si ma diti che sei anche in live per piacere perché murri no lo sa lo sa perché prima vi ho detto vieni fa stasera non posso massimo signore di twitch murri al suo canale di twitch ce l'ha eh si ma non lo so signore di twitch rideri jumpitek lo sta chiamando stormy official aspetta che trovo il riflesso degli occhiali mi dissocio qualsiasi cosa posso dire murri no ha staccato già no no rispondo posso scopare veramente ah no sto chiamando il numero spedato il numero nuovo il numero nuovo grazie di sef per l'abbonamento grazie kelly scusami ma vi fai la videocamata me l'ho ancora aggiunto ragazzi la videocamata ma vi l'avete chiamata su whatsapp ok aspetta un attimo e mi ancora fa vedere parti del corpo non visibili cioè non vedibili insomma no che cazzo devi far vedere allora aggiungi murri guarda te cazzo non l'ho aggiunto ma sai che anche non l'ho aggiunto vai pace al massimo mi scriverà lui allora murri 2 vado eh dovrebbe essere lui vada vada che era tipo pronto regà clippate aspetta no facciamo la videochiamata videochiamata no 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 il contrario non clippate videochiamare un re vai tipo che porco dio vuoi guarda la suoneria guarda la suoneria guarda che già sto dormendo diciamo come cazzo va a dormire a questo io per un valendo non ce la farei eh dipende che prendi no ma questo sta russando jumpy sai che non lo si sveglia mai no non si sveglia cazzo rip murri cazzo appassionati appassionati pure murri e mike così poi anziché due ore ce ne mettiamo sei a raccontare tutte le minchiate che ci sono successe se aggiungiamole loro niente si sta registrando mentre dorme mi dico altra cosa che farebbe per le views io non mi registrei vai mentre dormo ce la farei mai ma neanche andare in live mentre dormo andare in live è troppo cringe adesso io capisco tutto però non la farei mai vabbè non sai cosa succede hai capito ma no ma per soldi manco brazzo brazzo di nuovo saluto brazzo mentre dormo mi tocco le palli mi esce un testicolo che cazzo device not connected oddio oddio brazzo qui comunque ha dei seri problemi con la telecamera mi sa beh internet in Brasile è un po' così attac e stack sì sì attac e stack ti guarda attac una domanda perché Camper usa un microfono come? no dimmi perché Camper usa un microfono ma anche la stella cuffia abbassata mistero è un gamer no perché le cuffie isolano e il microfono invece così ti rimanda l'audio in cuffia e quindi senti meglio Giampino sei professionale vedi ehi ehi anche il tuo hai ragione no ma io posso fare il discorso lo devi impostare non lo sento ma scusa ma puoi fare la stessa cosa ma puoi fare la stessa cosa con l'elgato wave sì però l'elgato wave è più invasivo invece il microfono qua è molto più leggero ah vabbè il discorso è che quindi mi è più comodo perché se una persona per esempio mi chiama dall'altra stanza io comunque la sento non sono completamente fuori dal mondo il discorso è che mi sono fatto una cultura di cuffie perché le ho comprate due o tre paia e rimanate indietro dipende se le cuffie sono di pelle o di plastica o di stoffa se sono di stoffa ci passa in mezzo il rumore però comunque c'è differenza se tu tieni sul microfono o no lo senti proprio proprio quello c'è a dubbio però se te ne teni isolanti quelle di Stormi secondo me sono le migliori è la migliore soluzione si camper anche per te se vuoi te le metti così senti tutto e non ti serve un microfono il discorso è che con le cuffie isolanti mi sento completamente scemo cioè mi metto anche il riverbero in cuffia ma non riesco a parlare è questione di abitudini esatto io prima avevo in quest che sono le astro avevo questi in pelle poi mi sono disintegrati che la pelle è tipo andata a sgretolarsi e ho messo quelli in stoffa mi chiamano c'è faragone molto meglio quelli in pelle io le astro ma non le attacco ma sai cos'è il problema che quelli in pelle fanno anche fanno anche sudare secondo me molto io quando ho provato quelli in pelle mi sudavano proprio le orecchie dipende sì 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 perché non passai però sono più comode però sono comodissimi più comode no si sentono meglio cioè senti i bassi più profondi proprio comodo audio parlando perché ti isola di più esatto affinché non produciamo musica posso che infatti cioè le cuffie migliori sono cuffie aperte tipo queste anzi no queste non sono cuffie aperte queste porca le dt90 pro 990 pro esatto cosa sono? le sennheiser non sono sennheiser io quelle lì non posso prenderle perché con le xlr c'è un'impedenza troppo bassa e quelle lì c'è un'impedenza altissima ecco prima avevo l'amplificatore per questo serve perché se no non senti niente aspetta il cazzo invece l'ho immesso al jack del mac direttamente e si sentono meglio addirittura rispetto all'amplificatore saranno ottimizzati mistero però mi chiedono la bomba sono sennheiser sennheiser tedesche sennheiser non lo so ah non vedete voi scusate eccoci sennheiser buonasera ah non sennheiser sono a bear dynamic cazzo io sono dt non sono sennheiser infatti esatto però ci stanno lo sto solo per montare ancora io monto buongiorno grande quello anche noi quello anche brazzo noi abbiamo due editor però comunque noi editiamo spesso i video li tagliamo e li musico tutti io ma io consiglio sempre ho consigliato ho consigliato a mike anche di cercare tra i fan senza fare però cioè mike ha fatto proprio il video su instagram dicendo cerco editor e quello lo sconsiglio no io l'ho preso su linkedin direttamente su linkedin si ho fatto l'annuncio di lavoro avevo tipo un'ottantina di candidati tra questi ne ho selezionati tipo 25 gli ho mandato i video di prova a tutti adesso li sto selezionando mi stanno arrivando cioè già tipo due li ho contattati e sembrano molto molto bravi poi vedremo però è scoperto il discorso è che è anche utile che buonanotte siano fan nostri perché almeno sono già nel mood capito esatto se tu dai un video nostro a allora va parlavamo di alberto sì sì ma infatti una mi sento preso in cassa è lui è uno dei fatti il nostro secondo editor mi sento preso in cassa contate ma tra l'altro una cosa che io dico a tutti cioè i candidati con cui ho parlato cioè la prima domanda è mi conosci? sì bene se non mi conosci recupera tutto quello che devi recuperare perché altrimenti non possiamo lavorare in te ma per forza io non sei bravo con i meme non sei non conosci internet non lo puoi fare sto lavoro cioè un conto è montare i video musicali e i video i trailer è un'altra cosa un conto è montare i video per youtube un'altra cosa cioè possono avere tutte le competenze del mondo tecniche fortissime ma a noi serve una roba molto basilare che però è difficile da esatto sì ti dai un'ora di video e tenere 10 minuti capire cosa è divertente e cos'è quello che serve a noi e cosa deve tenere come deve enfatizzare quel determinato momento rispetto a un altro non è facile cosa mettere cioè a me mi ha scritto gente tipo di 40 anni che ha lavorato alla Rai alla Mediaset ma che cazzo mi mandi il curriculum per montare i video di youtube per montare i video del secondo canale di code che sono solo tagli praticamente mi hanno chiesto 400 euro a video a video il prezzo onesto ma come 400 euro sì sì ovviamente buono è economico ti fa il video ti fa il film di call of duty probabilmente lui esatto no 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 ovviamente il corto vabbè ma il montatore vostro prende uno stipendio fisso il nostro totta video no il nostro lavora con partita iva ma sì ovvio certo ok sì ma c'è un fisso ha un totta video no allora se fossimo costanti sarebbe fisso esatto ha un fisso comunque a video cioè per ogni video che monta poi in realtà comunque gli chiedo sempre di conteggiarsi le ore di lavoro e se un video ha impiegato 3 ore becca di meno se un video ha impiegato 12 ore gli do di più capito ok ok però c'è un è un fisso a video non un fisso mensile ok ok un video è tot esatto io invece tipo ho stanziato un fisso mensile perché comunque vabbè tu fai comunque quei 5-6 video a settimana quindi sì sì ma nel mio caso io potrei anche pensare a dare un fisso a Gabriel il discorso è che Gabriel però attualmente mi lavora part time nel senso che andando a scuola magari non c'è mi lavora magari 4 ore al giorno un giorno sì un giorno no e allora non posso pagare una persona fissa cioè non posso pagare una persona fissa se mi lavora 4 ore un giorno sì un giorno no magari un giorno io la potrò anche proporre il fisso ma cioè finirà la scuola quest'estate e poi vedremo ecco sì sì pagare a video ci sta se no vuoi fare alternanza scuola-lavoro ti fai montare i video e non lo paghi posto che tra l'altro un'altra cosa che ho saputo se una persona con partita iva lavora solamente per te faccio un esempio diventa dipendente è bannabile tipo diventa dipendente diventa e quindi quello stato ti si incula perché devi pagare le tasse sì sì se tu non lo assumi edito il video lavora per noi per Leo per Betta per Carlotta hanno fatto video a Fede nel nostro caso Gabriele ha montato video per per chiunque per Leo per Tratotta e via sì ma l'ha detto per il mio commercialista l'importante è che non diventi tipo cioè che non lavori solo per voi se no devi assumerlo come effettivo dipendente sì ma assumerlo è follia no no è fuori di testa non è non è pensabile per la tassazione assumere un dipendente in Italia è veramente una cazzata purtroppo eh io guarda aspetta scusa se ti interrompo bra che vado a fare come a Murni vado a dormire ciao 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 buon abbraccio a tutti ciao buon abbraccio a tutti buon abbraccio a tutti tutti fuori te camper così per chi non si è uscito arrivederci ci ha scritto lì camper fuori dalla criolla ciao 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 ben abbraccio a tutti che si fanno montare i video hanno proprio gli studi che fanno le cose fanno certi video, montaggio di Cristo fatti ma io non costa un cazzo perché a mano d'opera qua ovviamente con l'euro costerebbe niente, il problema è il fatto che non parlano in italiano è un problema enorme è il problema principale che cazzo gli do, devono tagliare le cose sei comunque costretto a prendere qualcuno che lavora in Italia e poi lavorare con passando i file tra sto punto anche noi c'è Gabriele di Trani Spoon è mutato ci sente quello che dite voi dicevo che pure noi Gabriele è pugliese e pure lavora con noi perché ci passiamo tutto online con Dropbox però non è un problema poi stiamo scoprendo magie dei programmi di editing che non abbiamo mai usato tipo fare un encoding di un file Alberto, Gabriele e Turi un'altra nostra amica abbiamo imparato grazie 20 milioni di cose di Premiere che in 8 anni non avevo mai scoperto no, sì usare lo stesso programma di editing è comodo quando vi passi il progetto fate la modifica ma tra l'altro adesso stavo pure scopendo cioè noi cercavamo solo gente con Premiere perché oggettivamente noi montando con Premiere ci serve darci l'ultima mano ma ho pure scoperto che se uno monta con Sony Vegas volendo puoi esportare il progetto in Adobe Premiere tutti gli effetti in comune li mantiene non abbiamo ancora provato questa cosa però effettivamente questa cosa potrebbe aprirci pure a uno che monta con Da Vinci a uno che monta con Final Cut a uno che monta con qualsiasi altra cosa che si può fare con Final Cut? scusa che devi passare un progetto da un programma all'altro cioè esporti tipo il file XML che ha tipo le informazioni del progetto e poi tu hai chiuso semplicemente rimettere i file nativi tipo nel progetto però già ci sono tutti gli effetti fatti ma non ci sono le cose non c'è incompatibilità tra virgolette perché magari spesso magari certi effetti non esistono non te li importa però tipo con Sony Vegas vedevo proprio tu puoi fare esporta in ProPJ, Adobe Premiere quello che è e quindi tecnicamente anche fossero solo i tagli e gli zoom potrebbe importarteli direttamente già fatti e sarebbe già qualcosa di interessante figo perché io mi ricordo c'è un sacco di compatibilità tipo con Sony Vegas che magari un file lo portavi lo facevi lì poi lo riportavi su Adobe su Adobe magari andava a scatti o viceversa sicuramente sarà pieno di bug quindi però c'è qualcosa da provare poi abbiamo scoperto pure l'encoding che è noi di base un progetto nostro ha preso a 100 gigabyte lo esporti in QuickTime che è il formato basic di Apple penso pesa 60 mega lo editano fluidissimo e poi lo riproxi in MP4 e va con qualità vabbè piccoletto non penso sia così che funziona l'encoding però diciamo è un altro formato di video non penso che la tua spiegazione fosse ma sì per capire più o meno che ora è in Brasile sono le 19.29 ah minchia che burro tra poco esce tra poco esce tra poco oggi non esco oggi mi sa che vado solo a fare una doccia vado a dormire come murri alle norme vado mangio qualcosa dopo esco vada lì mi faccio una can hanno riaperto tutto qua hanno riaperto pure i locali beh ma magari le prossime live così li hanno mai chiusi in Brasile hanno chiuso tipo alle 10 stava chiudendo tutto quindi alcune alcune tipo tra virgolette discoteche hanno non stavano proprio aprendo mi ci distociamo comunque dall'encoding di prima se vuoi un giorno farsi di chiacchiare con noi e spiegarci nuovi modi per montare video o vuoi montarci qualche video ben pagato contattaci ma penso che piuttosto seguo provini cerco montatore provini provini di fortuna magari uno dei prossimi talk del genere potremmo farlo con Brazzo in giro per Brasileiro Camboriù commentiamo reagiamo che cosa fa Brazzo e se arriviamo a 10.000 sub tutti andiamo a trovare Brazzo in Brasile li spegniamo tutti soldi e li spegniamo tutti le pane e alcol in live no no ste cose non si fanno caipirigne e come si chiama la camere mamma mia se venite qua in Brasile vabbè tanto già ve l'ho detto camper vestito da colaf però in Brasile penso che gli sparano per scendere all'aereo ragazzi no no regalo prendiamo una casa già avevo fatto vedere i prezzi come sono otto quanto prendiamo una casa in affitto ma una casa tipo con otto bagni quei nove stanze da letto cioè ognuno c'ha la propria camera da letto tutto quanto allora camper viene se ci sono otto bagni sì ma c'è solo del video una settimana con Neymar con inquilino se tu ci pensi immagina che non so se uno tira fuori che non so al mese 500 euro 500 euro a testa al mese se uno proprio vuole fare una cosa esagerata esagerata si prende no ma pure di meno porco mi fa due calcoli ma pure di meno viene una cosa uno prende una villa di quelle tipo hai su gli youtubers tipo quelli portoghesi quelli americani che c'hanno la casa con piscina cosa ognuno c'ha la propria stanza con il bagno dentro diventiamo dei tiktoker facciamo le case degli idol le chill house tipo le chill house di sto cazzo facciamo i balletti taci che ho scoperto che Leo va bene no vuol portare me spawn e bertra a fare un video in una casa di tiktoker no 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 me lo dici quello che vuol fare non posso dirlo sentono i pali la lap dance la pole dance full streaming full streaming lo so sono le idee di Leo spero che non si attuino attuino spero che non si realizzerà mai anche per la mia schiena se no ti devi rioperare sai che figata no comunque dai la prossima sarebbe figo sarebbe figo perché no ma in brasilia adesso com'è il covid brazzo tu che sei è migliorato non c'è ce n'è perché ce n'è come in italia ce n'è però è molto tranquillo soprattutto tutto qui a sud ma no grazie tilo scrivimi su instagram spero tu sia più vicino a Trento che a Palermo attilio non hai capito hai detto che vuol venire in brasilia è diverso ah in brasilia non fare che palle una domanda una domanda perché magari a un certo punto a un certo punto Bolsonaro ha iniziato a dire no non esiste un cazzo è tutto fake no mi ricordo sì non era una roba almeno così è stato detto in italia poi non so lì cosa avesse detto veramente allora lì la gente con la presa è un coglione questo allora il problema cioè lui è uno di quelli che pensa pensa al lavoro pensa alle cose tutto quanto è uno bello rigido da questo punto di vista quindi però il suo problema il suo problema è che per essere un presidente è uno di quelli che apre la bocca cioè pensa a una cosa non c'ha filtro e la dice quando non dovrebbe dirla cioè nel senso che magari se tu dici all'inizio dici eh per me il corona è una grippisina grippisina sarebbe è un raffreddorino no cioè se ne è uscito così all'inizio della pandemia uno può pensare una cosa però non la dici cioè tu sei il presidente della Repubblica non puoi dire ah è un raffreddorino poi prende soltanto quelli no quelli deboli che c'hanno già mattia io c'ho il fisico da ex atleta faccio dice troppe cazzate è uno che dice troppe stronzate senza filtri cioè lui magari non so durante l'intervista lui sa che devi fare quel discorso lo sta dicendo qualcuno lo interrompe e dice oh fatti i cazzi tu stai zitto tipo così al giornalista cioè hai capito è uno che non c'ha filtri ok e quindi da sto punto di vista non si è aiutato nel senso che lui ha detto mi piace l'eufemismo non c'ha filtri sì e quindi da sto punto di vista si è un po' ha un po' perso no? perché ha detto talmente tante cazzate dall'inizio pandemia che che ha perso un po' di credibilità però se non fosse stato per lui cioè tutta sta cosa rimanete a casa rimanete a casa il Brasile è un paese indipendente no? perché non c'ha che cazzo cioè non è l'Italia che c'ha l'Unione Europea che ci sono aiuti dalla parte della Germania ognuno tutti si aiutano sì sì c'è un fondo comune che qui guarda qui il fondo comune sa qual è è il Mercosul si chiama invece dell'Unione Europea si chiama Mercosul che sarebbe l'Unione di Brasile Argentina e altri paesi qui del Sud America dove stanno tutti con le pezze al culo e il Brasile è quello più ricco ok? quindi immaginate se è il Brasile che smette tutti di lavorare la gente muore di fame chiudi tutto la gente muore di fame lui dice oh se chiudete il Brasile non c'ha le condizioni la possibilità di dar soldi a tutti sussidi a tutti che dobbiamo fare? eppure l'ha dato però ovviamente i 600 reais tipo i 600 euro in Italia l'ha dato quasi per un anno però che cazzo ci fai? c'è una situazione proprio del cazzo ogni immagine ogni stato abbia su un paese a parte il Brasile vabbè nemmeno dei aiuti un togo un paese africano di qualunque tipo magari ecco proprio tipo la maggior parte della gente povera eccetera immagine una roba del genere che tu devi capire che cazzo fare se appunto dare priorità alla salute piuttosto che al lavoro che sennò la gente si va a ammazzare per prendersi il pane tipo esatto esatto ma cambiamo il discorso ma come il game di youtube in italia fa cagare rispetto youtube francese cos'è? what? non lo so non ho capito allora se vuoi ti rispondo semplicemente con un francese un youtuber francese a un pubblico mondiale più elevato perché la lingua francese è parlata non solo in francia ma in gran parte in altri paesi del mondo ma anche perché secondo me il cpm è uno dei più bassi in francia è artissimo il discorso il discorso qual è al dia di cpm però se voi prendete il top canale tedesco un top canale italiano più o meno la linguaità stiamo là ma perché? perché più o meno i guadagni sono simili chiaro che se prendi un top youtuber spagnolo o un top youtuber francese ci sono dei numeri i brasiliani ma rendi una differenza abissale ma perché un francese comunque ha più pubblico nel mondo no ma l'hai detto che tipo che con 15k iscritti aveva 2 milioni in banca cioè nel senso che magari con una cosa del genere eh sì basta non pagare le tasse sì ma magari ha detto una cazzata però comunque magari ce ne aveva già 2 milioni ma io conosco io conosco un youtuber no squisi non ha 15k iscritti squisi ha 15 milioni di iscritti ah 15kk allora cioè 15 milioni iscritti ma se sei francese è normale che puoi avere più pubblico la lingua francese ovvio è più diffusa nel infatti però devi fare i video in portoghese come fai l'ipaneto dovrei fare dovrei fare dovrei fare però dovrei fare però dovrei fare però dovrei fare cominciare da capo capito è tosto non è così scrivi a felipaneto cc oh bravo facciamo un video ma come un coglione mi sta sul cazzo sta sul cazzo a tutti quello però io però un portiere quindi va bene si felipaneto no non è il portiere ma io so che è un portiere ma no è un youtuber portoghese è il secondo youtuber brasiliano sono giocato a COD felipe ma col portiere o con lo youtuber brasiliano col portiere del barcellona non è il barcellona scusate ragazzi no no neto è l'ex dell'udinese del COD mi pare che si è giocato no felipe neto è un youtuber brasiliano devi farti amico il Logan Paul brasiliano più o meno il Mr Beast brasiliano poi vai a casa tua ce ne stanno alcuni io all'epoca io l'ho conosciuto un paio di youtubers brasiliani ma che fanno GTA capite basta c'è un milione e quattro oggi si è bloccato dopo che è morto GTA in quel periodo però girava con tutta la cricca che poi sono cresciuti da morire adesso alcuni che seguono che avevano 100k iscritti oggi c'hanno 20 milioni si si perché qua prendono tutto il Brasile in più prendono pure il Portogallo un po' pure della Spagna che parlano quindi immagino l'italiano lo parliamo solo in Italia quindi abbiamo un pubblico e volendo e volendo il cantone in Svizzera volendo ma che cazzo ma neanche tutti gli italiani parlano l'italiano tipo io infatti tipo io brazo vabbè brazo e brazia io sono africano no ma ce ne stanno troppe troppe cose cioè io so che per esempio il CPM in Francia è altissimo io mi ricordo quando andai al al Gamescom in Germania lì a Colonia c'era ha lavorato insieme a a Samsung quando sono andato con Divimov poi siamo pure beccati lì di Stormy no Stormy è Giampilek e c'era c'era questo youtuber che fa che fa GTA sempre fa pochi numeri oh questo gira con l'M3 gira con l'M3 gira tutti i macchinoni là e mi ricordo parlando con quelli di Divimov mi dicevano oh qua c'è un CPM della Madonna guarda c'è loro di Divimov mi dicevano ste cose e c'era un amico vostro l'amico vostro Bistard che c'era pure lui e lui non si cava tantissimo che questo aveva la serie M tipo l'M3 l'M4 2 adesso con il Covid c'è da dire che comunque anche in Italia sono resi conto che investire nel web è meglio però non lo so Giovanni parzialmente ti dico noi abbiamo avuto un innalzamento del CPM quando siamo entrati direttamente con YouTube quindi non so se effettivamente è solo quella pandemia o meno perché come è di fatto entrare con YouTube direttamente avevi dei riempiti il modulo qualsiasi canale ci davano 15 centesimi al mese ci davano 15 centesimi al mese nell'altra partner marcatrota noi è successo che cosa che l'altra partner aveva chiuso baracca e burattini quindi aveva smesso di vendere pubblicità col primo aprile trimestre nuovo noi non guardiamo niente io e noi anzi più Mike era impanicatissimo io ero più tranquillo perché immaginavo fosse semplicemente la questione del nostro network Mike ci già pensava ad ad poca gli pensava no no è finito tutto YouTube è la pandemia io finisco il mondo a posteriore c'era l'ambra incinta ma Mike era in quel periodo era vabbè e ricordo una goal con quelli di YouTube se ti ricordi Giovanni questo partner manager che ci seguiva di YouTube ci fa raga ho una brutta notizia da dirvi probabilmente non è questione del vostro network minchia danno io ho passato mezz'ora ho passato mezz'ora di chiamata a dirgli no hai torto tu che sei di YouTube a fine chiamata sono convinta a lei che la colpa fosse del network ma poi scusami le rimanenze abbiamo cercato cosa? cioè nel senso non ce n'erano rimanenze perché loro avendo chiuso diciamo che il nostro network era gestito da un'intelligenza artificiale che faceva il lavoro di segreteria probabilmente quindi come funziona un network o ti affidi a YouTube YouTube ti vende le pubblicità e te le piazza sul canale oppure dicono no YouTube tu non fai niente sono io al network li controllo loro compro le pubblicità per loro e le vendo sul loro canale o comunque una percentuale una percentuale questa cosa il nostro ecco se ti ricordi il nostro ex network lo faceva molto bene perché ci pagava cifre che erano il doppio che diceva analytics capito? e poi ti punto in bianco niente perché loro magari prendevano tutte le pubblicità diciamo prendo quasi tutte io e le smisto tutte io non essendoci più nessuna non le smistavano nessuna che fino a marzo guadagnavamo X con aprile abbiamo cominciato a guadagnare un decimo di X porca trota significa che probabilmente il 90% dei pubblicità registrivano loro e il 10% li lasciavano a youtube o chi per lui oramai che è più impanicato ha sentito uno youtuber con lo stesso network francese tedesco spagnolo non mi ricordo e fa ah guarda ho scritto una mail a questo qui mi ha dato quel contatto perché erano pure irraggiungibili questi perché chiaramente non ne senti più nessuno a lavorarci no non c'era più assistenza italiana non c'era più un cazzo chiediamo una mail ciao sai siamo ancora con il nostro network ma non esiste più ah si vero ciao vi scollego ok va bene grazie ciao ma non c'è il tastino scollega dal network è un problema che se tu lo clicchi loro hanno tipo 30 giorni 60 giorni per fare ricorso devo dire no non ti scollego se non fanno ricorso entro 60 giorni ti scollegano ma sono 60 giorni sono due mesi di lavoro è stato molto più rapido trovare questo contatto contattarlo al 99% dopo sei mesi dopo due mesi ci avrebbero scollegati però voi che avete magari un network cattivo dovreste chiacchierare con lo suo network non dire mi scollego lo dicono ah si mi scollego dice no aspetta parliamo scusate un attimo leggo solo sta domanda ma come funziona la pensione con youtube noi paghiamo come qualsiasi altro lavoro no come qualsiasi altro lavoro della libero professionista la libero professionista si lo dico io funziona che se sei giovane inizia a pagarla funziona che se sei giovane inizia a pagare le tasse magari sei 23 a 25 inizia a pagare le tasse adesso comunque la pensione non la vedrei mai quindi infatti è quello non puoi prendere in giro lui ma è proprio che fa ridere il fatto non ci si pensa esatto cioè non ci pensare puoi fare qualunque lavoro ma la pensione non la vedrei mai probabilmente lui immagina un fotografo immagina che cazzo ne so qualsiasi che persona con partita iva ecco le tasse le paga esattamente come le paghiamo noi a peso d'oro tra l'altro a peso d'oro perché in Italia le tasse sono io devo riuscire a trasferire tutto quanto qua e cominciare a fare cose qua rica c'è meno pressione beh sicuramente ce n'è meno che in Italia no le tasse 6-8% ok brazo lì sai cosa dovresti fare 6-8% sono totale quanto costa l'elettricità lì io spendo 100 euro al mese forse 20 euro no di meno 15 euro 15 euro supponiamo che costi meno che in Italia ovviamente ti metti a farmare bitcoin ma infamma subito sì ma quanto ci alzi con bitcoin c'è il problema che non hai freddo al mese eh no se ti fai il capannone tipo il capannone come si fa il capannone andò su se ti fanno le schede video per starla probabilmente con 3-4 schede video tutte connesse ci fai tipo boh 15 no ma cazzo dico tipo una decina d'euro al giorno vedi che era 30-80 giampi che abbiamo noi visto il farming è 15 euro al giorno al giorno con una sola manco poca sì ma quanto ti dura una scheda video che va al massimo tutti i giorni tutto il giorno quello si dura molto poco cioè se giochi a warzone probabilmente ti dura allo stesso tempo però vabbè in qualsiasi altro uso comune infatti lì devi metterla nel freezer dobbiamo andare tipo in finlandia o in freezer mamma mia non si può fare preferisco non si dice mamma mi dissocia signor ho detto che io preferisco andare a spa esatto preferici spaccare le pietre bravo esatto assolutamente mamma mia e niente ragazzi io mi sa che io pure abbia andato tu vai su minecraft è bravo incredibile ho messo aggiornatissimo io ogni tanto seguo leo che costruisce le cattedrali e fa autostale per l'italia si costruisce una stazione da sei mesi ma va bene lo stesso mette dieci anni così a jump io ho una cosa che ti dovrà arrivare nei prossimi giorni che ho fatto oggi mi deve arrivare cazzo mi devo arrivare un device un device un device un device guarda secondo me è un telefono o c'entra con il telefono oggi mi hai chiesto che cazzo sei andato a fare oh ma sei un imbecille ma ti ricordi ma ti faccio una domanda alle 11 di mattina e mi rispondi alle 1 di notte ma che cazzo ti ricordi non avevo il telefono tappicciato ma vasuca ma vasuca ma vasuca ma vasuca va bene ragazzi vi abbandono dai ragazzi la prossima volta vi portiamo anche Mike e Murray se ci stanno Mike probabilmente sicuro Murray no Mike sta allattando mi sa mi sa che non poteva sta allattando sta allattando si si ciao ragazzi va bene ragazzi ciao 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 ragazzi buonanotte ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ciao grazie